direi intanzitutto buongiorno a tutti buongiorno che visto il tempo ci vuole veramente per tutti noi direi di dare il via al primo dibattito di questa giornata del quattordici di settembre il dibattito al titolo Bad Boys una nuova generazione avanza forgiata dalle conquiste sul territorio non vi sto a presentare tutti subito coloro che interverranno perché sono molti mi sembra giusto chiamarli uno alla volta e permettervi poi di conoscerli di sapere poi anche cosa fanno nell'attività politica chi sono e cosa pensano eh credo che questo incontro sia uno dei più interessanti senza poter togliere nulla agli altri perché dà l'opportunità di presentare questa nuova generazione comunque questi giovani che possono dal loro punto di vista da eletti fin dai massimi livelli fino a livelli chiamiamoli più bassi ma senza togliere niente a nessuno possono secondo me dare oggi un'idea di quella che sarà la classe futura del partito ma anche quello che possiamo e dobbiamo garantire al nostro elettorato essendo di età giovane quindi in grado di poter progettare per il futuro credo che vista l'attualità vista quella che è la situazione comunque i giornali di oggi che parlano di un solo argomento va detto io ovviamente l'accento non può che tradire venendo da Firenze l'argomento di questo oggi non solo a Firenze ai me e ai voi è Matteo Renzi credo che sia opportuno partire da i due ospiti sindaci giovani per far vedere che abbiamo anche noi di sindaci giovani più bravi di Matteo Renzi e io lo posso garantire da Fiorentino poi penso che anche Giovanni Donzelli dirà qualcos'altro sicuramente e vorrei partire proprio da un sindaco e con lui così come con l'altro affrontare tre tematiche rapidamente l'idea è quella di fare un flash o comunque di parlare di tante cose senza però dilungarci per non essere poi tediosi quindi inizio e chiamo qui sul palco e lo saluto Giovanni Di Giorgi sindaco di Latina grazie sediamoci allora io dicevo parliamo di di attualità però vorrei innanzitutto partire dal ruolo di amministratore perché credo sia fondamentale te lo dice uno che in Toscana ha poche volte la possibilità di poter avere davanti un sindaco di centrodestra anzi forse l'abitudine non ce l'abbiamo proprio quindi fa già piacere e partire proprio da come si sta muovendo e cosa sta facendo un sindaco un sindaco giovane in una città importante come Latina quando si è trovata fra capo e colo una crisi che ha ammazzato un paese intero da una parte a causa del governo Monti dall'altra anche da una serie di circostanze internazionali che non ci fanno certo bene ecco però cosa può fare cosa sta facendo un sindaco per riuscire a tenere botta come si suol dire per riuscire ad andare avanti e a cercare comunque di far capire dal primo cittadino che sta cercando di garantire il benessere la tranquillità a una città che comunque è importante può sembrare scontato ma visti i tagli pesanti fatti credo che fra il dire il fare ci sia mezzo di mezzo il mare quindi sia importante sapere subito quelle che sono le reazioni e come un sindaco può reagire perché finché si parla di una regione finché si parla forse ancora ad una provincia ma un comune il rapporto è proprio diretto e non è sempre facile poi credo abbassare gli occhi quindi Giovanni come si fa a reagire a tutire il colpo di questo governo è difficile perché i tagli sono molto forti si stanno riducendo a tutti quanti i sindaci ad essere gabbellieri di Stato perché noi siamo coloro che dobbiamo chiedere le tasse ai cittadini e poi il governo se le preleva e ci fa ulteriori tagli con la scusa della spendi review quindi veramente dobbiamo andare incontro ad ottimizzazioni allineazioni se vogliamo mantenere il discorso legato al bilancio e soprattutto la cosa peggiore qui mi rivolgo al collega di Pavia che tra l'altro la pensiamo alla stessa maniera dobbiamo sicuramente come sindaci come Anci fare un discorso sul patto di stabilità perché il patto di stabilità così com'è concepito da questo governo Monti mette in ginocchio i comuni e quindi anche quelli virtuosi e Latina è uno dei comuni virtuosi noi non siamo sull'orlo del baratro però con questo patto di stabilità sicuramente non possiamo dare le risposte e quindi questo questo governo o cambia marcia e vede i comuni come una risorsa e non come un nemico da battere altrimenti veramente diventa sempre di più il nostro ruolo ridimensionato in in gabbelliere quindi questo qui dobbiamo fare che cosa facciamo per cercare delle risposte quello là legato alle nazioni che ci hanno permesso di mantenere il bilancio di andare a coprire i buchi e i tagli dello Stato il discorso legato all'ottimizzazione ma fino a quando si può arrivare quando poi abbiamo tutti quanti i gioielli di famiglia poi è finita e quindi la vediamo da sindaco in grande difficoltà e questo governo soprattutto con una visione orizzontale e non verticale quindi che va a premiare il i sindaci comuni virtuosi diventa veramente un problema e quindi la grande sfida che ci aspetta a noi sindaci ma in particolar modo a noi sindaci del pdl di centrodestra e quello là tutti quanti insieme far capire che il patto di stabilità deve essere rivisto grazie mi chiedono di velocizzare perché se no si va troppo per le lunghe quindi cerco di arrivare già una domanda quindi di attualità come dicevo ti chiedo e poi lo chiederò dopo anche ad Alessandro un giudizio politico su questa ricesa in campo di un altro sindaco giovane però dall'altra parte Matteo Renzi ma Matteo Renzi è un sindaco simpatico però è il rovescio della medaglia della crisi del pd cioè Matteo Renzi rappresenta come si sta dissolvendo il pd quindi un partito che si trova questa contraddizione in termini che si chiama che si chiama Matteo Renzi che lo rappresenta un po' da una parte può essere avvincente ma dall'altra parte rappresenta un po' come la bolla di sapone che è bellissima ma come la tocchi scompare e quindi questo qua mi sembra un po' la politica di Matteo Renzi Matteo Renzi in quel contesto sicuramente ha creato un grosso problema noi dall'altra parte dobbiamo pensare che anche noi abbiamo delle capacità abbiamo delle capacità del territorio e penso che i sindaci i consiglieri comunali i consiglieri regionali cioè quelle persone che sono andate sul territorio a prendere i voti e quindi col contatto diretto con il cittadino sono la nostra grande riserva e la nostra grande forza e quindi noi non abbiamo un Matteo Renzi abbiamo tantissimi Matteo Renzi e dobbiamo credere fortissimamente che dobbiamo ripartire da coloro che sanno parlare alla gente che sanno prendere i voti perché questa qua è la cosa più importante bene grazie Giovanni quindi cambio sul palco e chiedo quindi ad Alessandro Cattani o sindaco di Pavia di venire qua il prezzo è ok allora Alessandro domanda diversa almeno una se no facciamo troppo guai le cose innanzitutto come può un sindaco giovane garantire ad attuare delle politici giovanili altrettanto importanti per una città senza poi essere tradito da anche dai nostri davanti al fatto che qualcuno possa poi dire è un sindaco giovane sì però poi è un giovane vecchio perché non pensa ai giovani non dà spazio ai giovani a Pavia che si sta facendo ma a me piace parlare di politica giovanile non in senso classico cioè vedere i giovani rinchiusi in un recinto e dargli uno spazio un po magari anche defilato lasciarli razzolare lì e basta la mia idea di politica per i giovani all'interno di una città importante come Pavia è quella di spalancare le porte ai giovani nel mondo reale nel mondo di tutti noi per esempio a Pavia mi piace essere concreto con la concretezza che di solito hanno i sindaci abbiamo finalmente avviato per esempio un polo tecnologico era da anni che non c'era se ne parlava a Pavia e quindi dare concretezza alle capacità di fare impresa dei giovani e questo oggi è un tema assolutamente strategico va via un'università di 25 mila studenti ed è sempre mancato il travaso poi per dare le opportunità a un ragazzo un giovane imprenditori di diventare grande di cimentarsi con il mondo vero e questo lo stiamo facendo tra mille difficoltà con una burocrazia che non è amica ma certamente con strumenti nuovi con detassazioni mirate laddove un potere del sindaco ovviamente può arrivare e poi anche in in ambito culturale per esempio la nostra città di Pavia mettiamo a disposizione tutto quello che un comune può può fare in termini di spazi in termini e guardate bene io lo faccio al di là della partenza ideologica a me quando bussare porta un giovane non gli chiedo da che parte e arriva a me piace che se lui ha un'identità forte delle idee vere possa diventare la mia città anche il campo e il terreno per un confronto diretto e questo è quello che stiamo facendo a Pavia e poi un passaggio su i giovani amministratori permettimelo perché noi abbiamo tre anni fa avuto un ricambio forte quando abbiamo vinto le elezioni a Pavia noi abbiamo anche tantissimi consiglieri giovanissimi e secondo me ciò che possono portare di più bello in politica all'interno dell'istituzione innanzitutto una mentalità nuova un modo di avvicinarsi alle istituzioni con un piglio diverso e una delle cose che più apprezzo e che cerco di mettere in pratica è il senso di responsabilità che dobbiamo avere cioè noi non dobbiamo uniformarci ai vecchi schemi ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità anche destrutturare cambiare un po' l'andazzo noi stiamo facendo tantissime cose poco visibile magari poco elettoralmente con un ritorno ma per esempio stiamo portando una mentalità aziendale nuova nell'organizzazione dell'ente nelle dinamiche di controllo e di valutazione dei dirigenti all'interno del modo proprio di affrontare quello che è ogni giorno come un ente pubblico si interfaccia e lavora a servizio vero dei cittadini questo rapporto di mentalità di un giovane da protagonista nell'istituzione una cosa molto bella che io cerco di portare avanti tra mille difficoltà ma ti garantisco anche con grande grande intensità so che il tempo è poco quindi cerco di essere veloce va benissimo va benissimo altra domanda questo uguale invece a Giovanni prima su Renzi che dici da da no prima mi è venuta da chito un po' una prima detto Renzi è il rovescio della medaglia dei problemi del PD io non vorrei che diventasse il rovescio della medaglia dei problemi del PDL nel senso che ora Matteo Renzi sta facendo una battaglia che non mi appartiene perché quella all'interno del PD che non è la mia storia non è il mio ambito tra l'altro mi sembra che stia diventando anche vittima di ciò di cui Silvio Berlusconi per esempio è stato per anni il bersaglio loro se non hanno un nemico non riescono a condurre la loro attività politica devono sempre solo farla condurla in contrapposizione a che secondo me è anche un sintomo di forte debolezza questo credo che sia un buon segno per Matteo Renzi perché di solito tutti quelli che sono diventati nemici della sinistra poi hanno trionfato nelle tornate elettorali Matteo Renzi ha un campo di confronto che è quello delle primarie cosa che io personalmente auspico a gran voce anche ieri ho fatto ho fatto un comunicato stampa un po' così dissacrante ho detto caro Silvio facciamo per una volta una cosa di sinistra facciamo le preferenze facciamo le primarie oppure facciamo le preferenze che invece è una cosa anche molto di centro-destra certamente io credo che noi abbiamo bisogno di campi di confronto dove aprire il partito dove riuscire a fare quella cosa che secondo me è portare il merito nella selezione della classe dirigente come metodo di lavoro e le preferenze nella nuova legge elettorale io auspico che possano essere protagoniste auspico che il metodo delle primarie possa essere un metodo che anche noi faremo nostro laddove è stato sperimentato per esempio in alcuni sindaci dell'ultima tornata ha funzionato a Frosinone si è vinto a Lecce è stato segreto del successo di Paolo Perrone un ottimo sindaco che ha compattato così la sua maggioranza ha dato un forte segno ecco io dico che non dobbiamo per forza guardare a ciò che viene da una parte diversa come contrapposizione noi non siamo fatti con quel dna lì con quella storia noi ne abbiamo un altro e quindi anche le cose che di positivo vengono le possiamo prendere Matteo Renzi ora conduce una battaglia con la nostra e soprattutto aspetto il confronto con Matteo Renzi sui contenuti quelli veri quelle nostre a volte quando lui parla di politica nei confronti non so del dei sindacati quando apprezza Marchionne mi viene a dire che probabilmente è lui dalla parte sbagliata e sta probabilmente portando idee diverse da quelle che è la storia di quel settore ma noi vogliamo confrontarci senza paura sui temi sulla sostanza delle cose e non avremo nemmeno quindi paura di Matteo Renzi e secondo me se in questo momento storico guardiamo la concretezza dei fatti degli argomenti soprattutto troviamo una cosa la più importante di tutti l'interesse e secondo me anche il consenso dei cittadini che sono gli unici interlocutori rispetto ai quali il centrodestra il PDL oggi deve guardare per ritrovare consenso. Bene grazie grazie Alessandro direi direi di cominciare a questo punto la seconda parte quella più forse più ampia anche del dibattito quella che invece riguarda l'idea di parlare proprio di partito e parlando di partito fare a tutti una domanda uguale anche per evitare poi di farne cinquecento e poi di ripetersi troppe volte l'idea è questa una domanda per tutti dove si possa indicare per primo una critica al partito seconda cosa che viene chiesta una proposta per il partito terza che fa parte anche della proposta immagino che cosa stai facendo e cosa uno sta facendo in questo momento delle istituzioni e per il partito. Tre cose strettamente legate perché è giusto contestare ma è giusto anche proporre e dire cosa uno sta combinando nel partito per cercare di farlo crescere e per farlo rafforzare verso il voto del 2013. Comincio e parto e chiamo sul palco il primo dei vari parlamentari che abbiamo ospite che ringrazio Nicola Formichella. Grazie. Allora il quiz tre domande. Allora la prima domanda è la critica al PDL. Allora io faccio una critica proposta nel senso che io penso che noi dobbiamo lottare per un rinnovamento all'interno del PDL perché questa mattina io ho notato una cosa. Dopo tanti anni la classe dirigente dei giovani del partito che è entrata bene nelle istituzioni sia da parte di AN sia da parte degli ex AN sia da parte di ex Forza Italia sta cominciando ad amalgamarsi bene. C'è un Presidente di Regione, ci sono parlamentari europei, assessori regionali, consigli regionali, parlamentari, europarlamentari. Quindi io credo che la cosa importante è far capire al nostro al nostro partito ma capirlo soprattutto noi che se un giovane è all'interno delle istituzioni da qualche anno con il suo entusiasmo può dare molto rispetto a qualcuno che è all'interno delle istituzioni da vent'anni ha già fatto tutto e non è giusto che continui magari a fare il parlamentare soltanto perché è stato un grande dieci anni fa. Io vedo che ci sono parlamentari che sono in Parlamento dal 94 cioè da venti anni che hanno fatto ministri, presidenti di commissione, bisogna ora dare spazio a chi ha entusiasmo per fare le cose. La proposta? La proposta credo che noi dobbiamo cominciare a parlare un po' di meno di strumenti e cioè di strumenti che ci portano, che so, legge elettorale, è uno strumento, dobbiamo chiudere l'argomento soltanto dal punto di vista tecnico e basta, dobbiamo parlare di contenuti perché noi dobbiamo far capire alla gente quali sono le proposte del PDL su determinati temi. Io per esempio, e arrivo già alla terza risposta, mi sto occupando negli ultimi mesi di incentivare tra le persone che conosco di fare, di lavorare sulle start-up e sull'accesso al credito perché io credo che il primo problema del nostro paese sia il lavoro, il secondo problema siano le imprese e il terzo problema è incentivare veramente i giovani e faccio un esempio concreto. Il governo Monti ha fatto una legge che permette ad un giovane che ha meno di 35 anni di aprire una società con solo un euro, il che va benissimo, però se poi questo giovane non è supportato da un accesso al credito facilitato, con un euro comunque non fa assolutamente nulla, si tiene una società e non riesce a fare nulla. Invece ci sono tantissime esperienze nel nostro paese di incubatori di imprese, di incubatori di idee, di start-up che vogliono investire sui giovani e sulle idee dei giovani ed è il modo secondo me per risollevare l'economia del nostro paese, quindi un contenuto, un settore che il nostro partito secondo me deve cominciare a seguire in maniera concreta e per dare un contributo vero allo sviluppo e alla crescita economica del nostro paese, in modo da creare posti di lavoro, da creare economia e di dare il contributo per l'uscita dalla crisi. Perfetto, grazie. Sintetico, bellissimo. Beatrice Lorenzin. Buongiorno. Le stesse domande. Ah ma neanche le ripeti, così. Oramai. Ma dai, una per te, fai un po' il rappresentato. Se vuoi allora si ripetono. Ah non lo sa, allora ti metto alla prova. La critica e poi andiamo alla proposta. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il partito, io partirei dal partito, cioè noi stiamo passando giustamente anche molto tempo a parlare di organizzazione del partito, ma dovremmo innanzitutto parlare di che cos'è il nostro partito, che cosa vogliamo che sia e dove vogliamo andare, cosa vogliamo rappresentare. Se posso fare una critica dal punto di vista culturale, mi sembra che noi negli ultimi mesi abbiamo rischiato un po' di perdere la bussola, cioè di perdere l'orientamento di che cosa significa oggi essere un grande partito di centro-destra in Italia, chi rappresentiamo, qual è il nostro blocco sociale di riferimento e soprattutto con quale modello politico e culturale ci stiamo preparando non soltanto alla sfida elettorale, ma direi soprattutto ad una sfida epocale. Cosa sto facendo? Come nel mio piccolo, come formichina, come io sono un parlamentare, ma mi reputo sempre prima di tutto una militante appassionata di politica, credo che il lavoro che personalmente insieme ad altri sto cercando di fare ormai da circa due anni è quello di mettere insieme un'area culturale e dare un'identità e un'anima a qualcosa che deve essere di più di un contenitore. E questa è soprattutto una sfida generazionale. Lo dico non tanto per citare delle parole che sono in una sorta di sillabario della modernità a cui tutti noi facciamo riferimento, ma perché la sfida generazionale è quello che tocca a noi volenti o nolente fare oggi. Lo dico agli amici che sono seduti su questo, nelle prime file, ma è a tutti quelli che sono dietro. Noi siamo chiamati dall'attualità stringente degli scandali che per esempio oggi sono sulle prime pagine dei giornali che riguardano la mia regione e dall'attualità invece possiamo dire cogente che sono le grandi sfide della globalizzazione a cui siamo chiamati a dare una risposta nelle nostre scelte, nelle scelte come amministratori, come sindaci, come politici, come legislatori. Da questo punto di vista credo che o noi facciamo un salto di tipo anche proprio culturale nell'approccio della comunicazione, del linguaggio, della proposta politica o siamo destinati a sfaregliarci. Io ho guardato con interesse il dibattito fino ad ora. Noi abbiamo parlato nell'ultima mezz'ora di Matteo Renzi. Qual è la novità di Matteo Renzi da sinistra? Cioè Matteo Renzi ha detto signori cari togliamoci dal complesso culturale del 68. Bene, noi questo complesso culturale non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo mai avuto e se possiamo dirlo sono 40 anni che siamo dalla parte giusta del campo. Il complesso culturale del 68 qual è? È il mito della deresponsabilizzazione, è il mito del relativismo, è il mito del diciamo di una superiorità morale e culturale della sinistra che ha portato poi un risultato di tipo nichilistico dall'impostazione della società al valore economico. Beh, ma noi scusatemi, ma perché devo andare a fare il comitato Pro Renzi nel PD? Quella è una partita in casa loro dove stanno indietro di 30 anni rispetto a noi. Allora se noi abbiamo un'identità culturale, filosofica e un progetto politico economico che è ancora quello più valido non solo per questo paese ma per l'Europa, questa è la nostra sfida. A me sinceramente del dibattito che c'è a sinistra mi fa piacere, lo servo con interesse, anche con una certa ironia, ma sono molto più interessata a far emergere una generazione politica che oggi è esistente, non è il futuro, che c'è nel centro-destra e che è il momento che si rimbocchi le maniche e che con un certo coraggio prenda degli spazi che sono propri, perché in politica gli spazi non te li regala nessuno, te li devi prendere. Quindi questo è il confine della sfida su cui noi ci dovremmo confrontare, sarà una sfida difficilissima nei prossimi mesi, non sarà una cosa all'acqua di rose e dove, signori, anche con un minimo di orgoglio cerchiamo anche di dirci delle cose che possiamo rivendicare in modo forte. Allora noi facciamo tante critiche a casa nostra, ne parlavo ora con Luca mentre sentivo parlare del patto di stabilità per i sindaci, ma guardate che la politica del rigore l'abbiamo cominciata noi, non l'ha cominciata Mario Monti, cioè se noi non avessimo cominciato la politica del rigore nel 2008, noi eravamo la Grecia due anni fa, quindi dobbiamo anche avere un attimo la bussola di capire che nel 2009 Bersani dibattito sulla finanziaria in aula proponeva un aumento della spesa pubblica, cioè questa era la ricetta della sinistra. Poi loro sono bravissimi a ribaltare il piatto e a negare l'evidenza, ma noi se non siamo capaci noi di rivendicare le nostre scelte politiche, certamente non possiamo pensare che lo farà qualcun altro o che i nostri lettori debbano ricordarselo al posto nostro. Quindi questo secondo me è il lavoro. Quello che sto facendo io per il partito e per le istituzioni, io dicevo prima sono in affari costituzionali, mi tocca la qualunque, quindi passo dal presidenzialismo alla riforma delle istituzioni, al decreto sviluppo, ora mi sto occupando proprio in questi giorni della bolletta elettrica del metal meccanico in Italia, quindi potremo entrare in un contesto abbastanza variegato. La critica, ragazzi, le critiche sono tantissime, però la critica più forte che ci dobbiamo fare a tutti noi è che forse diciamo sottovoce delle cose che dovremmo mettere per iscritto e affrontare con un dibattito maggiore interno, perché noi abbiamo le risorse, abbiamo la qualità, abbiamo anche i leader giovani per rimettersi in, per rimetterci in campo e secondo me per riprenderci l'Italia. Grazie. Grazie Beatrice. Dall'Italia all'Europa, domande non cambiano ma passiamo ai parlamentari europei e cominciamo dall'onorevole Emilia Mazzoni che chiamo qui sul palco. Grazie. Senza domande procediamo direttamente. Una critica, una proposta e quello che in questo momento sta facendo per il partito. La critica, senza paura dire la verità. Una PDL che io posso dire ho osservato anche in maniera terza perché vengo da un'esperienza diversa. Io ho aderito al PDL dopo 15 anni di militanza nell'Udc e ho aderito al PDL nel momento in cui è nato. La critica è in questo progetto di, in questo processo di fusione, secondo me il PDL non è riuscito a mettere a frutto gli elementi positivi del movimento libero, aperto di Forza Italia e della costruzione partito basata sulla militanza, sulle sedi, sulle sezioni, sui territori di alleanza nazionale. E ha anche un minimo trascurato le altre, le altre esperienze culturali che sono confluite nel PDL. Con questo alla fine affidandosi ad una, a un gruppo ristretto, una sorta di oligarchia non riconosciuta dalla base, che ha rappresentato un tappo insormontabile per quelli che venivano dall'esperienza di Forza Italia rispetto al dialogo con l'IDER, perché da un certo momento in poi non si poteva più parlare con l'IDER, che invece aveva prima gestito in maniera molto più aperta e più democratica i rapporti con la sua base. Dall'altra parte invece eliminando quei meccanismi, giusti o sbagliati che siano di democrazia interna, che consentivano di arrivare dalla base al vertice superando una serie di step che erano in maniera trasparente regolamentati dagli atti di partito. E quindi a un certo punto la base, tutta la classe dirigente si è trovata nella difficoltà di uscire fuori dal proprio piccolo, dal proprio spazio e di essere forza, diciamo propulsiva come deve avvenire in un partito per il partito stesso. È incominciata la fase della lamentazione della divisione delle barricate, questo chiaramente ha creato un'incapacità di, ha ridotto il collegamento con la società e quindi ha anche reso ancora più difficile, lo è sempre stato in politica, ma ancora più difficile l'ingresso, il ricambio, il passaggio e quindi lo schema diciamo del rinnovamento generazionale è andato in tilt ed è diventato il punto, il nodo cruciale della dialettica interna. Io dico che noi facciamo bene, come hanno detto anche i sindaci in particolare, il primo formattatore, perché così mi pare che si siano definiti, a uscire fuori dalla paura, a emanciparci dalla paura di non dire e incominciare a parlare e a fare e mi piace anche dire che se Renzi dalla sua parte ha deciso di emanciparsi dall'accusa di essere un bamboccione che ci veniva da qualche esperienza di governo con la trovata dei rottamatori visto che aveva e ha da eliminare ciò che è inservibile perché dentro il suo soggetto partito non c'è niente che possa essere riutilizzato quindi è giusto che rottami è bene che invece noi formattiamo, cioè mettiamo in ordine, formattare anche se impropriamente nel gergo colloquiale viene utilizzato per dire giustifichiamo un testo, mettiamolo in ordine in modo da poterlo memorizzare, quindi è giusto giustifichiamo il nostro testo organizzativo mettiamo in ordine i pezzi della nostra famiglia e cerchiamo di incominciare a fondare una nuova esperienza su questa base che credo sia molto molto importante per quanto riguarda la proposta io vista la mia esperienza direi prima di tutto eliminiamo dal nostro non tanto gergo ma dal nostro modo di essere di vivere di agire l'Europa dice e incominciamo a pensare siamo l'Europa viviamo l'Europa agiamo l'Europa costruiamo l'Europa che forse è molto più corretto e da questo da da questa impostazione mentale poi facciamo discendere una proposta di contenuto una proposta di contenuto che può essere di derivazione europea perché lo schema che oggi almeno teorico propone l'Unione Europea è uno schema che mi convince e attuiamolo l'Unione Europea parte da e da tempo dalla necessità e la individua come priorità di guardare alle nuove generazioni perché perché l'Unione Europea ha a differenza del nostro paese ha una organizzazione che stabilisce i passaggi sulla base di una prospettiva di medio lungo periodo noi invece siamo abituati a guardarci alle spalle noi gestiamo oggi quello che avremmo dovuto fare nel passato quindi recuperiamo copriamo i vuoti non abbiamo lo sguardo rivolto in avanti ed ecco perché non siamo in grado di pensare alle nuove generazioni e di investire sui giovani la prima cosa quindi il protagonismo dei giovani intesi non nella loro individualità nella loro soggettività ma come interpreti di quel futuro sul quale la politica per sua natura deve investire parliamo di lotta alla povertà intesa nel senso di una scaletta analitica di azioni da mettere in campo oggi e subito e quindi parliamo di riforma del lavoro che non è quella che sicuramente oggi stiamo attuando parliamo di interventi per le piccole e medie imprese che non sono sicuramente quella patto di crescita o quel patto per il sud che vengono annunciati da qualche giorno parliamo di aree più deboli cioè mezzogiorno in altre parole utilizziamo attuandoli quelli che sono i principi cardine dell'unione europea così la vivremo il principio della sussidiarietà che vuol dire si interviene nel luogo più vicino al cittadino a chi pone la domanda senza stratificazioni burocratiche come avvene nel nostro paese la solidarietà che vuol dire aiuto dell'altro ma non in maniera assistenziale ma aiuto per cercare di dare di metterlo in condizione di sfruttare le proprie energie positive le proprie capacità coesione nel senso contaminazione positiva tra realtà che sono in una condizione diversa l'ultima è la parte relativa credo la domanda relativa al mio contributo il mio quello che ho dato al pdl potrei dire sempre con il senza paura l'hashtag senza paura potrei dire primo contributo sono entrata nel pdl ci sono entrata non accettando di candidarmi nel 2008 tra le liste di quelli che per decisione di vertice venivano eletti ma candidandomi l'anno dopo nel 2009 e prendendo 121 mila preferenze raccogliendo in questo modo non tanto un consenso per ermine amazzoni ma una conferma che un numero elevato di persone anche con una storia culturale diversa credeva in questo progetto e io vorrei che noi non lo deludessimo grazie 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 onorevole carlo fidanzo ecco qua carlo allora carlo anche a te le stesse tre domande quindi la critica la proposta e quello che stai facendo e hai fatto nel partito partendo dal movimento giovanile fino a arrivare a quello che stai facendo tuttora in europa grazie tommaso è la mia prima tra io da intervistato e non da intervistante e da ospita addirittura perché mi fa un certo effetto ma comunque a maggior ragione forse è più bello così no vedervi da questa da questa parte cercherò di rispondere alle tre domande insieme senza essere lungo però e vorrei partire dall'articolo che molti di voi probabilmente hanno letto di galli della loggia qualche giorno fa sul Corriere della sera e alcuni nostri esponenti giustamente tenendo il punto hanno criticato questo articolo anche perché è vero che diciamo il professor galli della loggia non è mai stato molto tenero nei nostri confronti quindi il pulpito sicuramente non era del tutto obiettivo però se noi vogliamo fare un'operazione verità e guardarci negli occhi e io credo che questo sia il tempo di guardarci negli occhi molte delle cose scritte in quell'articolo sono le cose che noi ci diciamo nei corridoi nei nostri incontri quando ci vediamo al bar quando ne parliamo insieme e allora non va liquidato in maniera così con un po' di spocchia no va invece approfondito e va letto con l'idea di dare delle risposte a quell'articolo che cosa si diceva sostanzialmente il pdl è scomparso dal dibattito politico è un partito avvitato su se stesso con una classe dirigente di vertice bloccata dilaniata dal dilemma se berlusconi si ricandida oppure non si ricandida e questo avvitamento sta producendo una cosa che abbiamo visto in questi mesi difficili di sostegno travagliato al governo monti cioè che anche di fronte a proposte di assoluto buonsenso e di positività che sono venute dal pdl poi riciterò la mancanza di credibilità di una certa classe dirigente del percorso che noi stiamo facendo in questo momento ha minato la bontà delle proposte nel merito cioè quando noi al fano ha proposto la compensazione dei crediti debiti per le fiscali per le imprese cosa che con molta fatica il governo sta cercando di fare quando si è proposta la nuova normativa sull'iva per cassa quindi le imprese pagano l'iva allo stato dopo che gli è stata pagata a loro quando abbiamo reintrodotto il tema della riforma istituzionale del presidenzialismo quando abbiamo lanciato pochi giorni fa la proposta sull'abbattimento dello stock del debito cioè quattro cose che sono sacrosante il problema dove è stato non che le proposte fossero sbagliate ma che non viene più percepito credibile quello che le propone cioè tutti noi noi non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e dire che una volta galli della loggia ce l'ha con noi una volta renzi sono problemi solo loro io a questo schema non ci credo più cioè sono stufo di auto assolvermi e di auto assolvere con me stesso tutta la classe dirigente di questo partito perché non è più tempo delle assoluzioni è tempo delle assunzioni di responsabilità perché perché io ho di fronte a me questo questo scenario non so se è quello che anche altri di voi hanno di fronte io mi vedo se non cambiamo le cose che tra qualche mese questo partito sarà diviso ma non diviso come qualcuno potrebbe pensare tra gli ex a n e gli ex forza italia che si rifanno a n e forza italia io mi batterò fino alla morte perché il soggetto unitario del centrodestra continui ad essere tale perché lo ritengo una conquista di questo nostro percorso cioè il motivo per cui ciascuno di noi ha abbandonato ha superato diciamo le case di provenienza politico professionali per costruirne insieme una più grande questo è un valore aggiunto io lo voglio difendere ma noi saremo divisi tra il partito dei candidati cioè quelli che preparare scusate le loro terga saranno disposti a dire in campagna elettorale a difendere l'indifendibile a sostenere l'insostenibile e il partito degli imboscati cioè quelli che non essendo candidati avranno paura di giocare la propria credibilità personale acquisita con tanto lavoro sul territorio in una campagna elettorale in cui devono sostenere l'insostenibile allora io un partito così non lo voglio vivere lo voglio cambiare prima che si divida tra i candidati disposti a dire di tutto e gli imboscati cioè quelli che per salvare se stessi non la fanno la campagna elettorale allora per superare questo noi dobbiamo dare voce alla parte bella del pdl la parte bella del pdl forse ne ha un piccolo spaccato qui stamattina cioè di tanta classe dirigente del presente diceva beatrice e non del futuro del presente che è già classe dirigente oggi che forse deve fare un salto di qualità che è un po' la difficoltà nel rispondere alla terza domanda perché ciascuno di noi può rispondere di quello che di buono fa dal presidente della regione calabia i nostri assessori deputati gli assessori regionali i sindaci nel nostro lavoro quotidiano siamo tanti bravini che facciamo bene le nostre cose forse non basta più forse non possiamo più accontentarci di fare ciascuno per i fatti suoi bene il proprio mestiere perché evidentemente questo non basta ad essere percepiti come credibili se a livello di vertice non c'è una credibilità per tutti e questo non basta a salvarsi dalla mancanza di credibilità che ti investe se il progetto complessivo non è credibile e allora forse è il caso che queste energie comincino a fare squadra di più che emergano che anche cerchino di creare dei momenti in cui si possa emergere tutti io vorrei un partito dei votati non un partito degli eletti non mi basta più vorrei che gli eletti fossero votati quindi vorrei le primarie e le preferenze per tutti dall'ultimo dei consiglieri comunali fino al presidente del consiglio vorrei un partito dei puliti vorrei un codice etico vorrei un partito con un programma politico noi non stiamo più parlando di cosa dire agli italiani se noi pensiamo di tornare in campagna elettorale a dire che a 18 anni dalla discesa in campo del presidente berlusconi è tutto il percorso che noi abbiamo fatto insieme noi possiamo raccontare che adesso c'è il governo monti che noi arriviamo in questa situazione perché c'è stato casini poi c'è stato fini poi ci sono stati i magistrati comunisti e ci sono stati i sindacati e tutto questo che ci sono cose che ci sono state ma questo non basta più alla gente per giustificare il fatto che la più grande maggioranza politica assegnata a un partito a uno schieramento nel dopoguerra non è riuscita a fare quello che doveva fare non è più tempo di autosoluzioni dobbiamo guardare in faccia gli italiani dobbiamo dire cosa abbiamo fatto di buono cosa non siamo riusciti a fare per quale ragione non siamo riusciti a farla che cosa ci candidiamo a fare con quali soldi perché oggi non è più tempo neanche di vendere sogni chi amministra la cosa pubblica tutti lei lo sa non ci sono soldi per fare nulla quindi non possiamo vendere sogni dobbiamo dire dove prendiamo le risorse per fare quelle cose che servono gli italiani e poi dobbiamo fare chiudo un'ultima cosa dobbiamo restituire una speranza a questo popolo non c'è rigore e non c'è tecnico che possa darti una prospettiva di vita si possono fare i tagli le riforme le riformine ma se tu non spieghi alla gente perché devono fare dei sacrifici se tu non gli delinei uno scenario verso il futuro quei sacrifici saranno sempre più insostenibili l'allontanamento dalla politica sarà per tutti la pagherà monti lo pagheremo noi lo pagheremo soltanto la politica vera può dare una prospettiva a un popolo e richiedere sacrifici se ci saranno da fare ancora sacrifici allora ripartiamo dai contenuti ripartiamo dagli strumenti per affermare i contenuti ripartiamo anche dall'idea originaria che ci ha messo insieme cioè quella di dare una casa a tutti quegli italiani che non si riconoscono a sinistra nel 94 abbiamo fatto questo percorso che ci ha portato fino a qui ed oggi e francamente di vedere il mio partito asserragliato in un bunker in cui nessuno ti vuole parlare nessuno si vuole alleare con te gli facciamo quasi schifo è qualcosa di intollerabile io voglio vincere le elezioni in sicilia e voglio ricominciare ad aggregare il centrodestra giannino montezemolo la lega di maroni chi ci sta ci sta un grande contenitore una grande coalizione che torni a parlare all'italia reale dei problemi del lavoro dell'impresa dell'economia reale dare la prospettiva che dicevamo poco fa questo dobbiamo fare uscire dal bunker anche riconoscendo i nostri errori e poi chiudo visto che oggi è una giornata dedicata in attesa del presidente sperando che venga anche facendo anche qui un'operazione di coraggio perché dovrà prima o poi arrivare un dopo berlusconi forse lo rimandiamo ancora di una volta io non l'avrei rimandato personalmente sarei andato avanti con la linea che avevamo tracciato a luglio dell'anno scorso ma siccome prima o poi arriverà attrezziamoci perché non ci sarà più la foglia di fico per nessuno ci sarà da mettersi in gioco e dovremo essere noi i primi a farlo grazie grazie Carlo grazie saluto perché deve andare via per impegni istituzionali il sindaco cattaneo grazie un applauso per lui grazie davvero e buon lavoro e chiamo qui sul palco un altro parlamentare un altro nostro giovane Sergio Silvestris grazie le domande erano chi siete cosa portate quanti siete un fiorino giusto sì più o meno cercherò di fare il ciò di tracciare l'alfabeto ho fatto tutte le lettere ne chiamo solo alcune poi lunedì se riesco lo completo lo metto su internet partiamo dalla assistenti parlamentari allora se pensiamo che la giovane italia sia un luogo in cui fare finta militanza per diventare assistenti parlamentari e entrare nell'orbita del parlamento abbiamo tutti sbagliato mestiere vi invito a non avere questa come prospettiva di vita la f formattatori in un partito o si sta o non si sta e se si hanno altre idee se ne fa un altro certo lo si contesta si cerca di portare all'interno dei luoghi deputati alla discussione una linea diversa ma fare i contestatori solo perché questo oggi fa tendenza è troppo comodo bisogna lavorare per un partito non dire di formattarlo e poi uscire con un comunicato dicendo sì lo volevamo formattare ma la cosa più nuova è Berlusconi noi stiamo con Berlusconi mi sembra una cosa abbastanza ridicola la G giornali non è che possiamo pensare che la militanza sia costruita leggendo i giornali e commentando la politica nazionale perché nelle ultime pagine di ogni quotidiano c'è la cronaca locale e il compito di ciascuno di noi me compreso è quello nei luoghi dove militiamo o dove amministriamo sul territorio di scrivere belle pagine di storia di cronaca locale non di farci le seghe mentali commentando la politica nazionale noi per troppo tempo nel nostro partito ci siamo sentiti tutti dei piccoli Silvio Berlusconi non abbiamo capito che il nostro compito era aiutare Berlusconi a governare meglio l'Italia e il partito poi alla L legge elettorale io inorridisco quando incontro ragazzi o quando mi chiamano ragazzi che mi invitano a fare dibattiti per discutere della legge elettorale c'è una cosa incredibile è l'argomento più vecchio che ci sia più d'anziani che ci sia più tecnico della politica che parla di se stessa che ci sia e noi vogliamo costruire consensi parlando della legge elettorale lasciamolo fare agli ottantenni vi faccio un esempio è come se andassimo in chiesa la domenica io ci vado quasi ogni domenica e anziché sentendo il prete che ci dà un messaggio di speranza sulla nostra vita futura sentissimo nell'omelia che ci parlassero di come sarà modificato il codice di diritto canonico per nominare i monsignori o per assumere i sacrestani dopo tre messe non ci va nessuno per sentire come saranno nominati i monsignori eletti i sacrestani o come sarà regolata la conferenza episcopale non possiamo pensare di fare politica parlando di legge elettorale è davvero una cosa assurda e qui lancio una provocazione io non mi sono mai candidato da nessuna parte neanche alla provincia dove non ci fossero le preferenze io invito tutti quanti a fare un patto oggi non quello per chiedere una legge elettorale con le preferenze tutti le vogliamo ma dire che se non fanno una legge elettorale con le preferenze nessuno di noi si candiderà mai in una lista bloccata al parlamento si facessero un gruppo parlamentare di vecchi bacucchi facessero la campagna elettorale con i settantenni e gli ottantenni poi vediamo quanti ne leggono e quanto durano quanto durano soprattutto allora sulla legge elettorale è chiaro che tutti vogliamo le preferenze tutti vogliamo le primarie tutti vogliamo la partecipazione ma se i gruppi parlamentari che ci abbiamo non ce la danno che facciamo io lancio una provocazione tutti quelli che sono con noi e che sono sotto i 40 anni non si candidassero e lo dicono subito così si faranno un gruppo parlamentare dove il capogruppo tu c'hai più di 40 anni si sa non so neanche che stia a fare qua quindi sei già diciamo un fuori quota tra l'altro una bella dieta te lo dico sempre ci vorrebbe eh vabbè non mi ne raccetto la qualunque in giunta la settimana prossima scopelliti quindi legge elettorale l'ho detta la 5 partito alla p il partito non è un'entità stratta che deve risolvere i nostri problemi ma è una somma di persone di buona volontà che si sforzano di fare cose buone piuttosto che chiederci che cosa fa il partito per noi ci sforziamo da domani di chiederci tutti quanti di più quanta buona volontà ci mettiamo per fare bene al nostro partito secondo me se facessimo questo diciamo una piccola inversione di tendenza già la metteremo in campo alla r renzi non ci facciamo impressionare da questo fenomeno perché per 15 anni la sinistra ha fatto solo una cosa parlare male di berlusconi da sei mesi non c'è più l'argomento per farlo allora adesso la cosa trendi è parlare male del proprio partito vale per renzi quello che ho detto per i formattatori se renzi c'ha le palle piuttosto che stare a contestare ogni giorno il suo partito se ne facesse uno suo e vediamo quanti voti prende non è che ci dobbiamo spaventare perché renzi parla contro il suo partito cosa che oggi fa tendenza perché oggi chi vince è chi parla contro il suo partito chi vince è chi scompagina gli schemi vince de magistris contro il centro-sinistra a napoli vince a palermo orlando contro il centro si oggi vince chi manda a casa prima di tutto la sua parte politica allora renzi che lo ha capito sta giocando questo ruolo ma è un ruolo episodico che durerà un mese due mesi tre mesi sei mesi e poi finirà non c'è una prospettiva e un progetto se non hai un partito che significa popolo idee programmi valori militanza partecipazione tutto questo in una convention organizzata da una buona agenzia di comunicazione come quelle che fa renzi non c'è allora non ce ne spaventiamo e diciamoglielo se proprio tutto quello che fa il pd ti va ti va male fatti un tuo partito e vediamo le liste che prendi e i voti che prendi secondo me non ne prenderà tantissimi sono arrivata la r alla v veline oppure sotto voce della v villa certosa sempre alla v vediamo anche su questo di cambiare pagina perché io sogno un paese che non sia governato da un gruppo parlamentare di alieni staccati dal territorio ma che sia governato da un grande popolo che è il popolo della libertà grazie grazie davvero Sergio allora direi di passare adesso invece a un altro ambito quindi dopo i parlamentari italiani dopo i parlamentari europei andiamo scendiamo senza però andare a dare meno importanza alle regioni e alle regioni quindi a chi svolge un ruolo politico e quindi di amministrazione con un ruolo quindi di assessore ma anche chi invece si trova nella condizione di fare il consigliere regionale di opposizione a trovarsi sempre dall'altra parte una valanga di mani contro e quindi non avere nemmeno poi molte volte succede la voglia di fare delle battaglie anche se poi vi posso garantire da chi sta in Toscana non è così perché trovi anche stimolo a insistere sperando che un giorno qualcuno capisca che chi sta a governare sbaglia da una vita parto e chiamo qui sul palco Francesco Lollobricida assessore alla regione Lazio per la mobilità allora qui cambiamo un po' le domande ne farei un paio una direi è ovvio riguarda l'impegno in regione ma in particolare cosa può fare una regione per i giovani perché credo che governando molte la maggioranza delle regioni italiane credo che sia importante anche da parte nostra mandare un messaggio e dire cosa sta facendo il pdl laddove governa in una regione per il mondo giovanile quanto può investire nonostante ovviamente italia e tutto perché sarebbe utopia se no fare un discorso del genere ma soprattutto capire se in una regione si può veramente arrivare al passo di un giovane io credo di sì da noi in Toscana ti posso garantire fanno un progetto che si chiama giovani sì ma in realtà Giovanni può confermarle a un giovani no perché c'è un pacchetto di soldi che poi in realtà appare e poi scompare perché non ci sono però in Toscana purtroppo li votano di Pietro votano Cecchigori votano tutti per cui possono anche dire giovani sì e tutti credono ma invece nel Lazio siamo diversi. Allora in queste ore intanto dobbiamo fare uno sforzo enorme nella regione Lazio che è quella che sta accomunando un po' tutti quelle della mia generazione Luca con me ma anche i consiglieri regionali cioè spiegare alla gente che non siamo un partito di ladri non è così semplice quando ritrovi in prima pagina l'ex capogruppo che si è appena sospeso dal partito io credo con atto dovuto poi lasceremo alla magistratura giudicare se il suo comportamento è lecito o non lo è è la cosa più faticosa che stiamo vivendo in queste ore che ci sta davvero creando anche dei problemi di carattere personale noi siamo cresciuti qui dentro siamo cresciuti costruendo eventi di questo tipo immaginando che la classe dirigente debba sentire la responsabilità il peso di quello che riesce a portarsi dietro di quello che riesce a rappresentare se c'è qualcuno che sbaglia che non viene da questa storia deve pagare se c'è qualcuno che viene da questa storia è imperdonabile perché sa quello che dovrebbe fare quando governa quando governa un'istituzione se non lo mette in campo è imperdonabile noi in queste ore però ci confrontiamo questo tenevo a precisarlo anche la nostra classe dirigente in questo momento ha bisogno di fiducia ha bisogno di una fiducia e qui a treio si riesce però a configurare nelle facce dei tanti volontari dei tanti militanti di quelli che rappresentano la destra pulita l'alternativa alla demagogia che viene oggi propugnata da chi questo modello non lo ha mai perseguito abbiamo di contro invece una regione che in qualche modo stava tentando di rappresentarsi sul mondo giovanile cercando anche con una difficoltà particolare è una regione che non ha un popolo della libertà se non parzialmente eletto perché la maggior parte dei nostri consiglieri regionali per fortuna quel listino aveva dei consiglieri regionali del popolo della libertà e quindi una delegazione interna al consiglio l'abbiamo ancora però abbiamo una regione che ha visto un sacco di neofiti perché qualcuno ha sbagliato a presentare le liste quindi non possiamo svolgere pienamente il nostro ruolo lo svolgiamo però da assessori da assessori esterni stiamo provando ognuno di noi a mettere in campo iniziative che possano differenziare l'azione di chi ci ha preceduto dalla nostra io ho un assessorato particolare per esempio quella della mobilità faccio un esempio per tutti intanto sottolineando e sottoscrivendo quanto è stato detto dai colleghi che ci hanno preceduto in particolare Carlo e Sergio che hanno una storia che abbiamo condiviso in tanti anni per cui le cose che hanno detto ci hanno trovato ma mi hanno trovato praticamente su tutto io ho messo in piedi per esempio sulle agevolazioni tariffari un modello nuovo noi diamo eh 50 mila agevolazioni tariffari ai giovani abbiamo scelto però di non darle più in base al reddito ma di darle anche in base a criteri di meritocrazia dove vengono definiti dei criteri precisi che sono anche del merito scolastico che è un elemento ma anche del merito sociale per cui a chi ha il coraggio sotto i 30 anni di mettere al mondo i figli vengono riconosciuti dei caratteri di agevolazione tariffari anche molto elevati fino alla gratuità del titolo di viaggio in modo tale che si certifichi anche alle nuove generazioni che l'istituzione pubblica si rapporta con loro definendo non solo il reddito e l'economicità come valore di giudizio ma anche tutta un'altra serie di parametri che proviamo a mettere in campo tra i quali quelli sociali. Altra domanda invece qui andiamo sul partito un giudizio da assessore quindi da uomo che si muove tutti i giorni sente quindi anche la voce dei nostri lettori per strada e non solo cosa si può fare per questo partito cioè si può veramente riuscire a cambiare qualcosa come diceva Sergio come diceva Carlo prima anche rapidamente oppure dobbiamo aspettare anche noi un nostro Renzi dobbiamo aspettare noi una rivoluzione che verrà una formattazione cioè si può fare qualcosa subito o dobbiamo ancora veramente stare lì a aspettare e guardare il cielo? Io ho la fortuna perché è una fortuna quella di aver potuto ricoprire il ruolo dopo essere stato eletto nel congresso di alleazza nazionale coordinatore provinciale di averlo mantenuto nel popolo della libertà quindi di aver fatto tutti i tentativi possibili per trasformare un partito in un partito delle regole. Io lo scorso anno sono stato entusiasta dell'intervento di Alfano quando è stato eletto quando ha parlato delle liste Coca-Cola quando ha parlato del partito delle regole del partito degli onesti. Allora io ritengo che basterebbe essere conseguenziali a quella impostazione per riuscire a risolvere i problemi di questo partito cercando di coniugare un'esperienza che in questi anni non ha visto purtroppo anche per le ragioni la crisi di governo tramutare quelle intuizioni in fatti concreti. Noi lo scorso anno abbiamo avuto purtroppo una altre liste nei comuni che hanno peggiorato il dato amministrativo. Nel Lazio se vogliamo abbiamo retto qualche comune l'abbiamo vinto. Abbiamo vinto i comuni dove abbiamo saputo schierare e mettere in campo giovani persone preparate persone attente al territorio. Molti di quelli che hanno vinto sindaci giovani anche in comuni grandi Nicola Procaccini a Terracina per esempio ma anche altri venivano dal mondo giovanile hanno avuto un'esperienza. Allora l'altro elemento che non può essere alterato è quello dell'organizzazione territoriale. Noi non vogliamo un partito che debba vincere che ha più rappresentanti di lista però vogliamo avere un partito che sia organizzato in modo tale che si torni a discutere sul territorio che ci si organizzi in cui non ci si vergogni di avere un rapporto con il territorio tale da poter chiedere le preferenze in campagna elettorale. Io anche sono uno di quelli che quando ho avuto la possibilità cioè quando hanno presentato le liste di preferenze ne ho prese molte da consigliere comunale, da rappresentante degli studenti fino a consigliere regionale. Credo che oggi sia una battaglia vitale quella della rappresentanza diretta che deve essere scritta nel nostro codice genetico in maniera perentoria al di là di chi si rifiuta in Parlamento argomentando nelle più varie maniere. C'è una sola argomentazione che io credo valga per tutti quelli che fanno la lotta alle preferenze. Chi è contrario alle preferenze perché le preferenze non ce l'ha, perché non ha saputo conquistarsele, perché non è a contatto col territorio. Io i deputati quando ero nel movimento sociale italiano avevamo una battuglia di deputati ridicola erano pochini, però li vedevo sul territorio, li incontravo, ci parlavo, erano persone raggiungibili, ti stavano ad ascoltare. Oggi è raro, alcuni ne abbiamo visti qui, trovare deputati che ti ascoltano, che capiscono quello che il territorio necessita e che poi in Parlamento portano qualcosa di concreto. Allora, per riappropriarci di questa condizione, le provocazioni che sono state prima lanciate possono essere senza dubbio raccolte, ma in queste ore, in questo luogo, anche al Presidente Berlusconi, anche il Presidente Alfano, va ribadito e sottolineato che la battaglia e la partecipazione della democrazia diretta deve essere la battaglia di questo partito. La democrazia o è diretta o partecipata o non è, non c'è alternativa, richiamando qualcuno che aveva in questo modo e in maniera perentorio ha definito altro. Non esiste una democrazia senza partecipazione, senza contatto con il territorio e questo si ottiene con le preferenze. Io non ne ho comprata mai nessuna e ne ho sempre prese tante. Grazie, grazie, grazie Francesco. Continuiamo sempre con le regioni, sempre con il Lazio e chiedo a Carlo De Romanis, consigliere regionale, di venire qua sul palco, grazie. Allora Carlo, io ho una domanda non del tutto simile a quella che ho fatto a Francesco, ma te la faccio a te. Se dovessi andare a votare improvvisamente domani per la regione Lazio, perché dovrebbe un cittadino della regione Lazio credere ancora una volta nel PDL o comunque in un'alleanza di centrodestra? Allora Tommaso, non è proprio il giorno adatto per fare questa domanda, perché credo che dopo quello che il PDL ha dimostrato con un capogruppo che è indagato, perpeculato, credo che in questo momento dobbiamo ripartire, ricostruire e dobbiamo lavorare tantissimo. e secondo me ancora non siamo sulla strada giusta, qua vada la critica, non mi hai fatto la domanda della critica, ma la critica viene, perché se noi scopriamo che un capogruppo è indagato, perpeculato e oltretutto vediamo le carte, perché questo partito le carte le ha viste, non capisco perché tentenna, abbia tentennato, anzi alla fine continui a tentennare perché ancora non è stato allontanato dal partito. Oggi lui, ho saputo delle agenzie, dopo l'arrivo della guardia di finanza in consiglio regionale, che è solamente anche motivo di, insomma siamo sollevati da questo, perché è giusto che poi gli inquirenti facciano il proprio lavoro, lui si è autosospeso, perché questo partito ha aspettato che un capogruppo indagato si autosospenda. secondo me bisogna prendere una distanza netta, immediata, già da settimane, questa è una critica che faccio e questo è il motivo per cui oggi purtroppo rischiamo di non essere credibili, purtroppo per fare politica non basta la competenza, non basta la lealtà, importantissimo, non basta il consenso, altrettanto importante, ricordiamo che questo personaggio ha preso 30.000 preferenze, non bastano queste virtù, ma serve anche l'onestà. Credo che qui dentro nessuno faccia politica per arricchirsi, per guadagnare, per fare carriera sui soldi pubblici. C'è purtroppo chi ha scambiato il denaro pubblico con denaro personale, il partito deve prendere delle decisioni immediate, le distanze, Alfano, a luglio dello scorso anno, quando lo abbiamo eletto per consenso generale a segretario nazionale, ci aveva promesso un partito degli onesti, allora perché ci hanno lasciato per due anni e mezzo a me e ad altri colleghi giovanissimi come Chiara Colosimo, Giancarlo Miele, un capogruppo che purtroppo aveva scambiato il denaro pubblico per denaro personale. Chiaramente oggi io sono abbastanza condizionato da quello che sta succedendo, se si dovesse andare a voto domani, davvero dovremmo lavorare tantissimo per ricostruire l'immagine di questo partito, ma il partito non ci sta aiutando, quindi chiedo ancora ai vertici di fare il possibile, non basta aver chiesto a lui di autosospendersi. Io non so se ci sono agenzie qua, però lo dico a voi, lo annunceremo poi, se sarò da solo, non credo, che chiederemo l'espulsione dal gruppo del PDL da questo personaggio. Non ho paura a dirlo, perché i ricatti, le ritorsioni e le minacce io per fortuna non ho nulla da nascondere, non ho scheletri nell'armadio, non ho mai rubato, alcuni miei colleghi possono passare per superficiali per aver presentato ricevute in maniera superficiale, ma qua nessuno ha rubato, quindi non abbiamo timore di chiedere l'espulsione di chi invece è accusato di questo. Andando oltre, passando forse alle proposte, si fa la critica, oggi la critica mi è condizionata, per favore caro partito, dai seguito all'obiettivo del partito degli onesti. La proposta è appunto, se vogliamo creare una classe dirigente di onesti, competenti, non guardiamo soltanto ai consensi, lo dice uno che preferenze le ha prese, anche se in regione sto con il listino, ne ho prese 25 mila alle europee, le ho prese da consigliere municipale, ho vinto dei congressi a livello internazionale, perché noi i congressi non li facciamo? Caro partito, se vuoi creare una classe dirigente che poi sappia andare a prendere consensi sul territorio, devi però dare la possibilità intanto di confrontarsi i giovani tramite congressi, se noi non facciamo congressi, io posso capire che qui siamo ad Atrei, un'esperienza che viene dal mondo di alleanza nazionale ed è abituato a confrontarsi nei congressi, infatti di questo è un'accusa che faccio a noi, credo Tommaso, anche tu sia d'accordo, per chi proviene da forze delle giovani, che abbiamo avuto poco l'abitudine di confrontarci con i congressi. Da azione giovani dobbiamo prendere quell'esperienza. Se noi già tra i giovani, ventenni, venticinquenni, non creiamo le condizioni per imparare ad aggregare consenso, come pensiamo poi di creare una classe dirigente che poi sul territorio vada a cercare il consenso? Ebbene, per favore, caro partito, ti propongo di creare queste condizioni e portare avanti l'idea dei congressi, soprattutto a livello giovanile, perché ormai siamo noi le nuove generazioni. Carlo Finanza diceva, io non avrei aspettato un altro giro, devo dire, se poi la classe dirigente che abbiamo è quella che, con le ragioni che ho portato finora ho criticato, forse è meglio aspettare un altro giro, perché magari al prossimo giro sarei tu, saremo noi, preparandoci di non essere come questa classe dirigente si sta presentando. Allora, per favore, non solo gli onesti, anche chi ha consenso tramite, a partire dai congressi, creare consenso e poi sul territorio. Posso, Carlo? No, ti facciamo una domanda, uscivo da questo argomento, almeno faccio una domanda anche tecnica. Flash, la risposta, se vuoi, se poi hai piacere di approfondirla, va bene lo stesso. Con questo aspetto in review, si parla di un sindaco, una regione che governa, i problemi che stanno nascendo, che sono nati e che prospetteranno. Qualcuno dice che la vera risi deve ancora arrivare, quindi i problemi ancora la gente li deve sentire veramente, al di là di quello che si può pensare. Quali sono state le conseguenze per chi abita nella regione Lazio con la spending review? Quali sono le cose che, secondo te, veramente, stiamo vedendo, sono cambiate purtroppo in negativo perché mancando i soldi ci sono difficoltà. Cioè, avere franchezza di dirlo, cioè purtroppo è una risi internazionale, non è una cosa riguarda l'Italia. Allora, certamente noi adesso stiamo chiedendo ai nostri cittadini di stringere la cinghia e tagli obbligati che provengono non solo da crisi internazionale, ma anche da obblighi europei. I nostri cittadini, la regione Lazio cambia poco dall'altra regione, posso dire che sono costernati da vedere che mentre chiediamo a loro di fare delle rinunce, nel frattempo abbiamo una classe politica che si contorna di allori e nel frattempo, per parlare di cose tecniche, non andiamo a utilizzare delle opportunità che sono già lì, che provengono dalle imposte dei nostri cittadini, che sono ad esempio i fondi europei. Tu che fai l'amministratore regionale sai bene che i fondi europei, i fondi strutturali passano attraverso le regioni, mentre il governo ci impone dei tagli drastici, noi non andiamo a utilizzare delle risorse che provengono sempre dalle tasche dei nostri cittadini. Allora i nostri elettori quando vedono l'inerzia nel non saper utilizzare le risorse, nel frattempo le spese altissime delle istituzioni, qual è la regione e non parlo, qui ho dei colleghi assessori, la regione tutta, c'è una critica sul Consiglio regionale, ma è la regione tutta che ha bisogno di una drastica revisione delle spese, non so come è stato emesso nel Consiglio regionale della Toscana, ma sinceramente abbiamo ammesso anche pubblicamente di voler tagliare a partire dalla riduzione del numero delle commissioni consigliari, quanti ne avete voi Tommaso? Noi ne abbiamo un terzo più di voi, purtroppo la vicenda degli assessori esterni è una vicenda particolare perché nel Lazio non si può paragonare a tutte le altre regioni perché è una vicenda a se stessa unica dovuta alla mancata presentazione della lista, ma guardiamo le spese anche dell'amministrazione, non guardiamo soltanto le spese della politica perché attaccano sempre e solo i politici, sembra che ci dobbiamo vergognare di fare politica. Parliamo della burocrazia, i costi dell'amministrazione, quanto guadagnano gli alti funzionari, allora mentre stiamo chiedendo con la spending review dei tagli e dei sacrifici da parte dei cittadini, Laziali nel frattempo l'amministrazione pubblica, quindi non solo quella politica, è dispendiosa e non sa utilizzare delle risorse perché purtroppo da quando noi abbiamo cominciato il nostro mandato nel 2010 abbiamo recuperato un terreno perso da Marrazzo enorme perché i fondi europei arrivati a metà programmazione, quindi al 50% del tempo era al 19% dell'utilizzo, non dico al 35-40, al 19 vuol dire che noi adesso in tre anni stiamo recuperando ben l'80% di fondi, di soldi concreti che provengono già dalle imposte dei cittadini, allora andiamo a chiedere i sacrifici mentre ci sono dei soldi che non utilizziamo, questo è il paradosso, nella nostra regione so che la Toscana anche non è messa, avete altri problemi, sui fondi europei sicuramente è più virtuosa della nostra, però posso dire che per rendere una cassa dirigente credibile è intanto tagliare non soltanto sui cittadini ma anche su di noi, sulla pubblica amministrazione in generale, non sono sulla politica perché se no sarebbe uno specchietto per la lodole e utilizzare quindi l'efficienza di saper utilizzare bene le risorse. Grazie Carlo, grazie e chiamo qua sul palco un altro assessore, sempre della regione Lazio, Luca Malcotti. Grazie Luca, a te una domanda invece la faccio perché qualcuno ce l'ha fatta a noi durante un dibattito in regione Toscana, si è parlato tanto di cancellare le province, poi sta venendo fuori questo papocchio bene o male a livello nazionale per ogni regione come una guerra di campanili, io parlo per la Toscana, allucinante, chi deve cedere per qualcun altro, campanili anche delle volte buffi, in Toscana viviamo quella simpatica rivalità fra Pisa e Livorno che tutti voi ovviamente conoscete bene, però qualcuno ha detto ma siamo sicuri che il problema vero era le province, non erano da cancellare le regioni, te cosa rispondi su questo? Io penso che questa partita è stata affrontata da tutti quanti piuttosto male perché la riorganizzazione della struttura dello Stato sul territorio è una cosa seria e non si fa per tagliare le spese, si fa per organizzare meglio lo Stato sul territorio, l'idea che oggi tagliamo le province e perché costano e che le province si difendano dicendo no dobbiamo tagliare le regioni, così io posso dire che forse dovremmo tagliare le spese dei ministeri e magari è un gioco cretino che sottende una mancanza di cultura politica, in Italia esiste e da tanti anni un problema di riorganizzazione dello Stato, faccio un esempio, io sono assessore ai lavori pubblici, noi gestiamo la rete viaria regionale della regione Lazio, la rete viaria regionale, la manutenzione straordinaria è di competenza della regione, la manutenzione ordinaria delle medesime strade è di competenza delle province, quindi quando si fa una buca deve intervenire la provincia, se quelli non riparano la buca per un mese e la buca si allarga la dobbiamo riparare noi, è una cosa che non funziona, è una cosa stupida, è una cosa che ci fa sprecare un sacco di soldi, diseconomie e quant'altro, è una roba che non si fa, bisogna riorganizzare lo Stato e bisogna riorganizzare le competenze, purtroppo il governo Monti ha per certi versi tagliato con l'accetta questo ragionamento, nel Lazio ci ritroviamo con la strana idea che Rieti debba diventare provincia di Viterbo, quindi un cittadino di Rieti per andare nel suo capoluogo di provincia deve passare per l'Umbria perché deve passare per Terni e ovviamente è una cosa senza senso, ma la risposta non può essere organizzata così, la risposta vera è troviamo uno strumento vero per gestire, per riorganizzare lo Stato, per riequilibrare le competenze, forse bisognerebbe discutere del fatto che le regioni devono essere enti che fanno legislazione di indirizzo e non gestione e fanno gestione, un rapporto diverso con i comuni, l'ho detto anche ai piccoli comuni che sentono il fiato sul collo della minaccia dello scioglimento eccetera eccetera, sono vent'anni che discutiamo di come si mettono insieme i servizi, di come si creano le sinergie per gestire in maniera unitaria, non si è fatto, arriva un giorno qualcuno e ti presenta tutto insieme il conto. Grazie, l'altra domanda invece sul partito la faccio anche a te, la tua critica forte che ti senti di alzare in questo momento è invece quello che te faresti, fossi oggi il presidente del partito per un giorno, cosa faresti subito, la cosa più urgente? Quindi sarebbe come dire per tutti voi un'esperienza molto complicata, se io diventare scopelliti lo sa bene, se io potessi diventare presidente del partito farei danni inerrabili. Io vorrei dire che la critica più feroce credo è che il nostro partito sta passando all'interno di questa fase molto complicata per questo paese e molto difficile a livello internazionale in maniera serenamente inconsapevole, come se fosse imbambolato, nessuno si sta rendendo conto credo di quello che sta accadendo, noi siamo alla fine di un ciclo della politica, siamo alla fine di un ciclo della storia, siamo alla fine di un ciclo di un modello di sviluppo e non ci stiamo attrezzando a dare risposte a questo e quindi è come se noi stessimo litigando sulla scaletta dei brani musicali del Titanic mentre il Titanic affonda. cosa sta succedendo e cosa possiamo fare? Io ho apprezzato l'intervento divertente di Sergio prima però invece io sulla legge elettorale non sono d'accordo perché purtroppo oggi la legge elettorale, la reintroduzione di un meccanismo che consente ai cittadini di scegliere i propri eletti è diventato fondamentale perché se noi non ricostruiamo i luoghi della politica il momento di contatto e diamo un senso alla rappresentanza, noi non abbiamo un luogo dove poter costruire la nuova rappresentanza, la dico banalmente, se io che faccio l'assesso se avessero presentato nella lista avrei dovuto prendere le preferenze, io che ho la prospettiva di doverle prendere, un giorno sto a cena a Percile che fa 240 abitanti, un giorno sto da una parte e un giorno dall'altra, se il mio problema è farmi mettere in lista alla mattina gli vado a portare il caffè e avere una classe dirigente, di gente che batte il territorio piuttosto che di gente che porta il caffè a chi fa le liste fa un'enorme differenza per un partito, quindi io credo che l'errore è di non essersi attrezzati ad un passaggio che ci sarà, un passaggio di ciclo politico, quindi le primarie vanno fatte perché dobbiamo dare il segnale alla gente che non vogliamo più esautorarli dalle scelte della politica gli dobbiamo ridare la preferenza e gli dobbiamo ridare tutti i meccanismi di partecipazione ragazzi nel Lazio noi abbiamo raccolto una montagna di iscritti nel PDL ed era già un momento difficile, era già accaduto al governo Berlusconi, il fatto di non avergli fatto compare un congresso dopo un anno è una cosa gravissima, gli avevamo promesso che a ottobre scorso facciamo un congresso ora possiamo discutere quante tessere sono state fatte eccetera eccetera, c'è tanta gente che ci ha dato il suo documento, la sua firma, il suo modulo e che si aspettava a ottobre scorso di essere chiamata, li dobbiamo chiamare, li dobbiamo dire che comandano loro dentro il PDL perché altrimenti continuano a percepire il PDL come altro da sé e allora io credo che noi questo lo dobbiamo fare e poi credo che ovviamente la politica bisogna ricostruire i luoghi della politica ma poi la politica è fatta di contenuti io di confesso che non riesco più a guardare i talk show politici perché ho una forma di irritazione nei confronti della qualità del dibattito, ancora stamattina sui giornali noi stiamo discutendo dell'articolo 18, tutti compreso il PDL, in un paese che ogni giorno licenzia migliaia di persone per crisi noi continuiamo a parlare di tre unità che vengono licenziate per giusta causa è una distonia, è un'ipnosi che non ha senso, noi dobbiamo ricominciare a parlare delle cose vere delle cose che fanno la differenza alla qualità della vita delle persone dobbiamo riuscire anche a studiare alcuni argomenti sono noiosi ma se non li affrontiamo non ne veniamo a capo e guardate perché oggi è tutto propaganda sentivo un argomento che alleggia è questo di Renzi, ne avete parlato io su questa storia di Renzi sono esterrefatto nel senso che qual è il fatto sconvolgente che in un partito ci sia uno che si mette a fare l'opposizione dovrebbe essere la normalità non dovrebbe essere uno scandalo men che meno dovrebbe essere un fatto innovativo e dirompente e invece un fatto innovativo e dirompente sta pescando elettorato nella casa nostra ci sta gente del PDL che sta facendo i comitati per Renzi e perché? e perché il fatto che uno apra un dibattito dentro un partito magari finora senza argomenti concreti soltanto sui meccanismi propagandistici è già un fatto politico e questo è imbarazzante perché significa che nessun altro lo fa e allora forse ci dobbiamo più che ridicolizzare o accusare o denigrare questi dovremmo preoccuparci di come fare a casa nostra un po' di serio dibattito politico e come crescere una classe dirigente se mi consenti devo essendo un amministratore del Lazio dire una cosa anche su questa vicenda che ci sta toccando che è una brutta storia io credo che proprio perché qui siamo alla festa del mondo giovanile io credo che il mondo giovanile più di ogni altro debba essere intransigente con la politica io credo che non soltanto che si debba recuperare il partito degli onesti che se uno una persona fa delle cose sbagliate debba essere come dire non debba avere alibi senza cadere nel meccanismo della caccia alle streghe che non abbiamo che non ci appartiene però credo che non basti questo purtroppo oggi non basta perché non bisogna essere soltanto onesti bisogna anche essere sobri nei comportamenti purtroppo se vogliamo essere seri lì si è determinato un meccanismo che andava moralizzato prima bisognava togliere prima le ragioni per le quali alcune cose si potevano determinare non possiamo come dire aspettare di vedere una persona che cade nella peggiore delle tentazioni e non vedere che c'è un meccanismo che le favorisce tutte ecco questo no noi dobbiamo fare e in qualche modo cerchiamo di farlo un'azione che è anche preventiva Francesco fa l'assessore come me noi siamo tenuti a fare un resoconto al ministero della pub al ministero della pubblica amministrazione su quali sono i consulenti su quali sono le spese di rappresentanza degli assessorati il mio assessorato come quello di Francesco come quelli di tutta la giunta sono a zero dal 2010 a zero zero questo evita che cioè nel senso se mai non un altro ma io avessi avuto la tentazione di pagare un caffè qui con quella cosa beh questa tentazione non c'è stata perché noi l'abbiamo rimossa alla fonte io credo che in un momento in cui noi stiamo chiedendo dicendo alla gente che non abbiamo i soldi per fare l'assistenza domiciliare non ti puoi permettere di avere delle spese di rappresentanza e credo che questa se noi facciamo seriamente questo eliminiamo anche tutti gli altri problemi e diamo un segnale di serietà sul quale si può ricostruire una speranza vera per questo paese perché il popolo delle libertà avrà un futuro soltanto se indica un un'idea di paese da ricostruire e da costruire da immaginare per i prossimi 50 anni grazie grazie Luca ci spostiamo verso il nord Italia in particolare in Lombardia e chiamo qua Alessandro Colucci grazie allora Alessandro della Lombardia purtroppo anche durante quest'estate si è parlato di tutto e meno che di politica si è parlato più che altro di magistratura si è gettato fango sul presidente Formigoni si è parlato anche di un rapporto in crisi o comunque di una guerra con la Lega anche per il futuro però in realtà com'è la situazione attuale della Lombardia adesso quella che sta alla Lombardia del futuro i rapporti quindi anche con la Lega ma soprattutto perché dobbiamo ancora credere come facciamo spesso noi in Toscana che la migliore regione è la Lombardia guarda io ti ringrazio della domanda e devo dire che nei prossimi 45 minuti che ho a mia disposizione faccio una battuta cercherò di rispondere sinteticamente su un tema che a noi sta particolarmente a cuore ho iniziato con una battuta però perché devo dire che la prima volta che vengo a questa manifestazione che sono stato invitato ringrazio dell'invito e dell'accoglienza perché è un ambiente caloroso un ambiente di giovani ed è bello vedere dei giovani che hanno voglia di confrontarsi sui temi veri della politica anche per fare formazione per crescere ed è entusiasmante poter essere qua in Lombardia abbiamo vissuto un'estate difficilissima e non vi dico il fastidio davanti a un lavoro un impegno quotidiano che si prova da amministratori regionali soprattutto quando lo hai riconosciuto tu con la domanda ma lo so che tanti amici lo pensano è visto come un vero e proprio modello quello Lombardo e ve lo dico da assessore non perché facendone parte del governo Lombardo devo tifare per un governo efficiente il governo Lombardo funziona perché anche quello che certe volte non viene fatto come partito lo fa istituzione regionale si confronta con il territorio con le categorie cerca di capirne l'esigenza e mette in campo anche davanti a poche risorse disponibili risorse per riuscire a fare delle politiche efficienti e allora la risposta che abbiamo dato non solo quest'estate ma in tutti questi mesi a queste critiche a queste aggressioni all'aggressione al presidente Formigoni è raccontare le cose che abbiamo fatto e continuare a fare la politica del fare che è una cosa che poi caratterizza tanti giovani vorrei fare una battuta a proposito di questo sui giovani noi non abbiamo un presidente di regione che è giovanissimo allora io credo che non bisogna tifare per i giovani in politica solo per un aspetto anagrafico la giovanità noi la possiamo anche trovare all'interno di persone che hanno una grande esperienza come il presidente Formigoni ma che nelle idee politiche è giovane e le prende dai giovani allora questo è lo spirito che deve animare il popolo della libertà e vi posso dire che il regione Lombardia nonostante sia il quarto mandato di Roberto Formigoni il nome degli assessorati il programma la strategia tutto quello che fa parte del governo regionale è profondamente cambiato rispetto a 18 anni fa allora deve essere non giovane che è dentro in politica e vogliamo sicuramente tanti giovani ma deve essere giovane la proposta è il modo di fare politica e visto che parliamo di aggressione alle istituzioni io sono un grande amico di Scoppelliti e credo e me lo sento farlo a questo palchetto esprimegli solidarietà perché anche Giuseppe purtroppo nella sua regione è aggredito in un modo assolutamente inaccettabile e non bisogna distruggere le esperienze del centrodestra le esperienze del popolo della libertà e soprattutto guardare la politica del fare per i giovani in questa legislatura abbiamo pochi soldi abbiamo messo a disposizione 30 milioni di euro per un progetto che si chiama start up e che i giovani oggi stanno utilizzando per fare imprese abbiamo messo a disposizione 130 milioni di euro per fare formazione e tanti lo utilizzano i giovani per istruirli nel mondo del lavoro per il mondo dell'oreficeria per le professioni particolari non quelle note quelle che vorrebbero far tutti ma quelle specifiche dove bisogna avere un'alta professionalità e dove i nostri imprenditori cercano posti di lavoro allora bisogna rispondere a questa aggressione con la politica del fare tenere duro come fa Formigoni come fa Scoppelliti e far capire che la politica giusta e sana è quella del centrodestra è quella di un modello Lombardia che lo dico da originario pugliese deve poter essere esportata in tutta Italia perché abbiamo la fortuna di governare da 18 anni abbiamo il consenso per governare da 18 anni mi viene da dire beati voi mi viene da dire l'altra domanda rapida così poi andiamo avanti con gli altri interventi la tua critica al partito oggi e la proposta del domani allora io adoro fare politica e ho anche un lavoro al di fuori della politica quindi credo che non bisogna fare politica se non per assoluta passione rischiamo di dire tutte le stesse cose sul partito e quindi io non voglio solo dare un obiettivo e anche sottolineare alcune critiche ma soprattutto spiegare il perché dall'esperienza Lombardi io penso che sia importante puntare a certi obiettivi l'organizzazione è fondamentale è importantissimo e quando si parla di strumenti io credo che siano fondamentali utili e abbiamo bisogno all'interno del partito di individuare dei riferimenti chiari attraverso il consenso e l'elezione si chiamano congressi si chiamano primari chiamiamole come vogliamo ma dobbiamo avere la possibilità di scegliere in base a dei programmi e non a delle indicazioni dei grandi capoccia dei partiti che dicono la deve fare il coordinatore Tizio e la deve farlo Caio ma su dei programmi dove i territori sostengono delle candidature dobbiamo sostenere i nostri dirigenti in alcuni casi tanti giovani in altri casi magari meno giovani ma persone che rappresentano quel progetto e quell'idea e questa è la sintesi fondamentale che dobbiamo avere all'interno del partito e qua è fondamentale il tema delle preferenze cioè sembra quasi che se qualcuno non è stato scelto all'interno degli stili bloccati o delle benedizioni che vengono fatte dal partito chi non è lì dentro tifa per le preferenze per riuscire a arrivare in quelle istituzioni noi dobbiamo pensare alle preferenze per un solo motivo per quello che vi dicevo per il motivo per il quale riusciamo in Lombardia a fare determinate politiche la preferenza costringe ad alcuni succede con piacere ed è un trasporto legato alla passione al fare politica ma la preferenza costringe a frequentare i diversi livelli produttivi di un territorio le categorie i sindacati anche quelli che non sono vicini i giovani i meno giovani i diversi livelli della società e allora come si fa a capire cosa fare in un'istituzione se non si hanno questi rapporti la preferenza non sarà il sistema perfetto in assoluto ma è migliore di quello di oggi se vogliamo sapere di che cosa ha bisogno la gente che cosa ha bisogno il mondo che ci circonda e anche avere dei suggerimenti delle soluzioni per fare le cose la preferenza ci costringe ad avere rapporti ad avere soluzioni per affrontare serenamente il nostro impegno anche perché io ho 38 anni affronto materie legate all'ambiente ho affrontato materie legate alla scuola ho affrontato materie legate al commercio si può pensare che uno a 38 anni o a 70 se non ha mai avuto rapporti con alcune realtà possa inventarsi assessore su quella materia no deve avere l'umiltà di confrontarsi e avere la necessità e l'obbligo di farlo allora le preferenze consentono proprio questo e consentono anche a tanti giovani di mettersi in gioco perché io quando anche vado nelle televisioni locali e sento cittadini che criticano il politico la casta intanto dico io un lavoro oltre alla politica ce l'ho e poi dico signora signore ragazzo ragazza si candidi e dimostri che le cose che dice sono così vere che prende voti e sa anche amministrare il giorno che andrà in un'istituzione grazie grazie Alessandro grazie mille riscendiamo giù di nuovo per l'Italia andiamo in Abruzzo e chiamo qui sul palco l'assessore Paolo Gatti grazie allora mi viene da dire che sull'Abruzzo ci sarebbe da parlare innanzitutto di una regione che ha vissuto un momento tremendo non molti anni fa e quindi prima cosa mi viene da sapere anche come sta andando cosa sta succedendo perché si parla di tutte cose belle e importanti ma la vita dei cittadini la situazione come sta andando avanti insomma abbiamo visto l'Emilia Romagna in Abruzzo è stata una cosa purtroppo simile che cosa vuoi dire da amministratore di Abruzzo riguardo alla situazione attuale post quel dramma che ha colpito l'Abruzzo non molti anni fa e soprattutto come ha saputo reagire il presidente Chiodi in questa situazione ma intanto un'operazione di verità all'Aquila in Abruzzo la gestione della fase dell'emergenza che fu una fase di grandissima difficoltà fu una gestione ottima adesso a tre anni di distanza viene riconosciuto da tutti a livello internazionale il governo nel giro di pochi mesi riuscì insieme alla protezione civile ovviamente a rimettere a casa tutti a ridare un tetto a tutti a chiudere tende baracche quindi la fase dell'emergenza fu gestita molto bene la fase successiva è stata una fase molto più difficile che si è aperta non all'insegna della verità perché molti hanno raccontato che all'Aquila nel giro di due tre anni si potesse risolvere tutto e non ci fu il coraggio appunto l'operazione verità di dire ci vorranno 10-15 anni per far ritornare la città alla normalità e questo non soltanto a motivo di burocrazia ma per tante altre ragioni tuttavia una nota che è positiva invece è quella che riguarda il discorso economico e del lavoro perché se l'Abruzzo negli ultimi tre anni è passata da 484.000 occupati a oltre 500.000 in un momento così difficile vuol dire che ha tenuto complessivamente la regione ha tenuto anche la città dell'Aquila e forse le politiche che abbiamo messo in campo io faccio tra l'altro l'assessore anche al lavoro le politiche che abbiamo messo in campo sono state delle politiche di concretezza e di risultati grazie la domanda questa anche per te ovviamente sul partito e quindi nel particolare quello che ti senti di proporre da amministratore della regione Abruzzo per migliorare il tuo partito in Italia nella tua regione e soprattutto oltre alle proposte una critica cosa ti sembra nell'immediato si possa risolvere subito e cosa ci vorrà del tempo perché casomai non si può eludere i nostri elettori mi è piaciuto molto l'intervento di Carlo Fidanza la critica sta proprio nella incapacità del nostro partito di aver almeno avviato una serie autocritica secondo me nella serie autocritica cosa c'è? c'è da dire che non siamo stati in grado di raccontare agli italiani cosa è successo dal 2008 da quando abbiamo chiesto il loro voto ad oggi cioè non siamo stati in grado di raccontare le cose buone che sono state fatte non siamo stati in grado di raccontare perché abbiamo fallito su alcuni obiettivi della rivoluzione liberale della trasformazione dell'istituzione del paese non siamo stati in grado di farlo e quindi rispetto a questa critica la proposta sarebbe proprio questa cioè noi non possiamo pensare di ripresentarci in un'elezione politica senza raccontare cosa è successo senza dire con sincerità all'elettore cosa è capitato in questi quattro anni altrimenti cosa facciamo? Noi dobbiamo dire le cose che abbiamo fatto quelle che non abbiamo fatto perché non le abbiamo fatte e soprattutto se vogliamo ancora farle perché altrimenti il dibattito diventa vuoto cambiamo il nome al partito chi se ne frega in questi mesi lo diceva Carlo ma lo dicevano anche altri si ha l'impressione che non ci stia a sentire più nessuno cioè siamo completamente desintonizzati con il cittadino e con i suoi problemi con la sua rabbia tante volte è comprensibile dobbiamo per ricostruire questo rapporto di ascolto per farci ascoltare dobbiamo dire quello che non abbiamo fatto perché non lo abbiamo fatto e se intendiamo ancora di farlo questa è la proposta poi come diceva l'altro amico l'euro Silvestris il discorso della legge elettorale è soltanto però va preso perché in questo partito dobbiamo avere il coraggio di dirlo la selezione a classe dirigente è stata fatta a WEC si dice da qualche parte al sud eh vabbè a cazzo sotto questo aspetto sotto questo aspetto noi abbiamo una sola possibilità di tornare in mezzo al popolo tra la gente e raccontare qualcosa mettere in campo delle facce credibili e spendibili ma soprattutto facce che devono andare a fare cosa cosa devono andare a fare quindi dire cinque cose agli italiani vogliamo metterci d'accordo e dire cinque cose all'insegna della verità che si possono fare in un tempo di crisi io qualche idea ce l'ho ma credo che tutti noi abbiamo delle idee costruire una piattaforma semplice con facce spendibili altrimenti fa niente dobbiamo pensare a ricostruire una prospettiva di centrodestra in questo paese una prospettiva liberale perché questo questa parte di campo gli italiani che stanno in questa parte di campo il bisogno di rappresentanza ce l'hanno grazie Paolo arriviamo nella mia regione nella Toscana chiamo quindi sul palco il mio collega Giovanni Donzelli vieni Giovanni allora Giovanni una domanda sulla Toscana la faccio la conosciamo bene credo che il famoso modello che a sinistra vanno a raccontare di una Toscana Felix della Toscana come un modello che vincendo sempre la stessa parte politica quindi quella rossa allora la regione toscana sia il posto più bello del mondo e d'Italia e invece è venuto fuori e tesse uno di coloro che ha dato una mano a sollevare il coperchio della pentola quel bubone quel grande problema che è la sanità sono venuti fuori degli scandali degli ammanchi pesantissimi su delle asle in particolare nella zona di massa e a mano a mano ne stanno venendo fuori guarda caso poi altre di pentole più o meno grandi ma sempre da scoperchiare come per esempio a Siena cosa sta facendo il PDL su questo che meriti ha il PDL di avere scoperchiato questo perché ricordiamolo a tutti l'attuale presidente della regione toscana era l'ex assessore della sanità il PDL in Toscana sta prendendo il coraggio di fare opposizione nel senso sembrerebbe scontato però sta con il gruppo che abbiamo formato Tommaso lo sai benissimo finalmente non cerchiamo più la pacca sulle spalle della maggioranza non cerchiamo più il saluto compiacente dell'assessore ma abbiamo preso coraggio di alzare i tappeti e alzando i tappeti sta venendo fuori di tutto ora la cosa del buco dell'asala di Siena io poi dopo non voglio ammorbare con i problemi toscani però è curiosa perché direttore dell'asala di Siena fino all'altro ieri era l'attuale moglie del governatore Enrico Rossi è emerso che nel buco dell'asala di massa qualcuno i soldi se li portava proprio via quindi nell'immaginario della sinistra che vuole dare lezioncine di moralità di buon governo finalmente le cose iniziano a venire fuori poi prima o poi speriamo che anche i cittadini aprano gli occhi altra domanda anche a te sul partito la tua idea di partito come quindi vorresti il partito e quindi la tua proposta è quello che invece più non tolleri a vedere assistere nel tuo partito nel nostro partito non tollero niente perché se c'era qualcosa che non tolleravo come diceva giustamente Sergio cioè se dovessi criticare solo il mio partito e pensare che è tutto sbagliato sarei andato in un altro partito avrei fatto un altro partito cosa c'è che mi piace del mio partito sono i buoni auspici cioè io quando ho sentito Angelino Alfano se riprendo le cose dette da Angelino Alfano negli ultimi sei otto mesi sono entusiasta si riparte il partito degli onesti le primarie la partecipazione le preferenze il basta con le liste Coca-Cola l'Europa ieri sentiva Angelino che parlava dell'Europa che deve tornare a essere Europa dei popoli ed eleggere direttamente un premio europeo perché non ci può essere uno Stato che nasce da una moneta ma bisogna nascere dal popolo e se sento dire è il partito migliore del mondo che ci possa essere mi piacerebbe non solo perché oggi piove ma se quel sole che tutte le volte sento dire noi siamo quelli col sole in tasca e tiriamolo fuori da sta tasca il sole cioè realizziamole anche un po' queste cose perché oltre che si dice sempre abbiamo una serie di programmi per esempio abbiamo fatto i congressi bellissimo favorevolissimo ora io senza niente levare ai concittadini romani devo capire perché l'abbiamo fatto in tutta Italia e non nella provincia di Roma ancora io sta cosa non l'ho capita vorrei capire perché noi a Siena ci siamo dovuti scannare con bettolle cose rapporti umani in difficoltà e poi a Roma non si fa il congresso vorrei capire anche perché non si sono fatti poi i comunali cioè se fatti i provinciali tutto fermo sui congressi quindi è rimasto una cosa a metà mi piacerebbe che fossimo che non avessimo paura fossimo compiuti nelle nostre decisioni anche questo io mi permetto e spero che quando verrà nel pomeriggio glielo chiederemo e ci diremo qualcosa se Berlusconi vuole tornare in campo lo dica torni in campo decidiamo quello che non mi piace nel mio partito è che non si decide in un momento in cui fanno tutti a gara a sembrare decisionisti noi che avevamo il mito dell'efficienza e della che eravamo coloro che hanno risolto il problema della spazzatura a Napoli trovato una casa e terremotati dopo il terremoto dell'Abruzzo quelli efficienti quelli decisionisti in questo momento sembriamo quelli che subiscono gli eventi della storia ecco vorrei un partito che non subisse ma la creasse la storia Giovanni rapidamente perché poi la parola va invece alle conclusioni gli approfondimenti con il presidente Scopelliti sto chiamato in causa prima su Renzi ma tu la devi farla da fiorentino devi dire qualcosa e devi spiegare a tutti che se qualcuno ha dei dubbi nel giudicare Renzi deve venire almeno una settimana a Firenze e poi a nostro avviso cambia idea rispondo su Renzi ho la consapevolezza di fare in questo momento da tappetino negli interventi per permettere a tutti quelli che sono agli stand di capire che sta per parlare Giuseppe Scopelliti almeno lo sentono e si riavvicinano mentre faccio da tappetino devo dire una cosa dovessi dire che Renzi nella sua vita politica ha sbagliato tutto direi una bugia Renzi ha fatto una cosa fatta bene l'unica cosa veramente fatta bene e di destra Renzi l'ha fatta ha fatto una cosa fatta bene e di destra il resto quando sento dire è di destra e non è vero sono tutte fregnacce fa finta una cosa fatta bene per la destra italiana l'ha fatta è stata nel 1999 99 quando ha votato la lista di centrodestra le elezioni universitarie ha dato la preferenza a me questa è stata l'unica cosa buona che ha fatto Renzi nella sua carriera politica il resto non ne ha fatto nessuno no no io come lui dice se il centrodestra mi vuole votare io dico se a me qualcuno di sinistra mi vota perché facevo bene le cose il rappresentante degli studenti quando lui mi votava ed era già nella Margherita però mi ha votato quindi l'ho preso bene l'unica cosa buona no io credo a parte le battute che Renzi che noi si stia facendo noi un errore con Renzi stia facendo l'errore di considerarlo uno che alla fine ci può essere utile perché indebolisce il PD vedo i giornali nostri amici che continuano a parlarne come se fosse uno che alla fine c'è amico che dice cose simpatiche perché parla male della CGL perché parla male i sindacati Renzi sta facendo un'operazione cinica ma lui non ha lanciato solo l'attacco verso i vertici del PD lui ha lanciato un'opa sul nostro elettorato cioè lui ha lanciato un'opa ostile sul nostro elettorato lui vuole prendersi gli elettori di centrodestra per portarli a votare poi politiche di sinistra perché lui ora dice questo ma poi farà la politica semmai dovesse vincere le primarie la farà la politica della CGL del PD però la farà prendendo la classe dirigente sua quindi né di destra né di sinistra ma gli amichetti suoi con i voti del centrodestra e noi non possiamo stare fermi a dire ieri mi dispiace gliel'ho detto quando ha finito di parlare ieri era frascata la summer school Angelino ha fatto una buona battuta ma secondo me l'ha sbagliata quando ha detto Renzi alla fine voterà a noi noi dobbiamo smetterla di dire che è simile a noi o che ha le nostre stesse idee perché se no si rischia di dare nell'elettore nostro che un po' è deluso perché è inutile girare il centrodestra nell'elettore nostro un po' è deluso se noi si dice Renzi dice le stesse cose nostre si rischia di creare il meccanismo per cui l'elettore nostro dice allora se dice le stesse cose posso votare Renzi che è nuovo e simpatica l'accento come Pieraccioni è un rischio che noi dobbiamo evitare perché Renzi quando ha governato ha dimostrato non di essere soltanto un cattivo amministratore ma di essere il peggior politico da prima repubblica Renzi da presidente della provincia sono cose che se cercate in internet le trovate tutte ora la Corte Conti gli ha messo anche le mani sopra usava i soldi della provincia di Firenze non per i cittadini per le scuole per le strade no usava i soldi della provincia di Firenze e Tommaso ci è passato un anno in provincia e ha visto i risultati usava i soldi per preparare il comitato elettorale per questo momento cioè lui ha speso milioni e milioni di euro si parla sommando delle finte iniziative che svolgeva chiamandole Genio Fiorentino quelle che dava alle società amiche alla televisione si parla di circa sommati nei suoi anni in cui è stato presidente della provincia di circa 50 milioni di euro che ha rastrellato per poi arrivare ora a usarli per farsi la campagna elettorale per arrivare a capo quindi lui poi si dice noi per carità siamo un partito non siamo dei ladri ha sbagliato il capogruppo è Lazio per carità ma si parla ai spiccioli confronta a quello che lui ha rubato ai cittadini per farsi la sua campagna personale per arrivare a raccontarci che è il nuovo e la faccia pulita non è il nuovo non è la faccia pulita ha la coscienza è la faccia sporca non è simpatico perché se poi non lo conosce è solo pieno di se stesso soltanto no perché poi è simpatico no è uno che è pieno solo di se stesso e dobbiamo stare attenti però non dobbiamo nemmeno solo parlare male di Renzi perché altrimenti non si risolve cerchiamo di ridare anche noi un progetto serio al nostro partito cerchiamo di dire qualcosa di avere un'identità culturale e politica cerchiamo di dare dei messaggi chiari cerchiamo di far vedere anche noi che siamo pieni di gente seria preparata che ama il proprio partito che non ne parla solo male che vuole costruire un progetto cerchiamo di far vedere che abbiamo tanti uomini validi perché questo almeno agli elettori gli passerà anche il dubbio di votare Renzi non voglio levarti il tuo ruolo ma tra questi uomini validi ne abbiamo uno che è eccezionale che è partito dal basso che ha fatto il capo di un movimento giovanile che era il movimento giovanile della destra che ha avuto il coraggio di organizzare manifestazioni fuori da Montecitorio dicendo arrendetevi siete circondati il primo girotondo della storia contro i corrotti è un uomo che quando è arrivato a governare ha governato con coraggio e determinazione senza paura grazie Peppe perché ci dà l'orgoglio di appartenere allo stesso mondo grazie Giovanni e chiamo sul palco per le conclusioni il Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti grazie io devo delle scuse in partenza ti spiego subito perché la giovanità a volte non ci aiuta adesso io ho 45 anni quindi insomma fino a un certo punto ma qualche anno fa quando ci sono state le elezioni europee io chiedo scusa all'onorevole Mazzoni 14.000 calabresi insieme a me hanno votato quel parlamentare che avete ascoltato prima che è Sergio Silvestris che rappresenta decisamente un mondo opposto al nostro quindi una volta si sbaglia però poi basta anche perché abbiamo scoperto abbiamo scoperto le lettere dell'alfabeto pugliese A F L Z noi in Italia abbiamo A B C D E e così via scusa allora passerei quindi subito alle domande una che è ampia però credo che ne valga la pena il futuro del partito e la demagogia della politica invece ci sta molto vicina mi spiego secondo te che sarà del Pdl o di come si chiamerà quello poco importa comunque di questo grande popolo di centrodestra cosa ci aspetta che idea ti stai facendo ci stanno confondendo soltanto i giornali o realmente ci sono dei problemi come mi sembra evidente da affrontare che problemi c'è da affrontare dal punto di vista del militante ma anche dal punto di vista del presidente di una grande regione e soprattutto quali sono i rischi di una demagogia che sta arrivando sempre più forte che prima si è chiamata qualche mese fa ma lo è purtroppo anche tuttora Grillo e in questi ultimi giorni fino ad oggi si chiama Renzi il giornale questa mattina titola il Pd è morto sottotitolo per me perché il Pdl è vivo cioè noi un problema lo abbiamo questo gruppo dirigente aveva avuto una felice intuizione ovviamente anche va dato merito a Silvio Berlusconi per aver dato in là questa idea di aver lanciato poco più di un anno dietro la candidatura di Angelino Alfano Angelino era ed è un giovane capace di grande qualità perché poi qui abbiamo sentito alcuni che giustamente sono intervenuti alcuni colleghi consigli regionali assessori e hanno incominciato a parlare di onestà di trasparenza cioè attenzione questo è un fatto già grave nel nostro mondo c'è uno che dice sì però quello è un politico onesto io sono preoccupato cioè se parliamo del fatto che noi abbiamo pure qualche politico onesto e questo è il fallimento della politica io vado oltre allora Angelino Alfano è un giovane preparato di grande qualità che conosce comunque la politica e si sa muovere abbastanza bene che riesce a esprimere dei concetti importanti e quindi a dare un indirizzo e quindi a prospettare un futuro al nostro paese e nel mentre noi abbiamo giocato per la prima volta negli ultimi anni di anticipo rispetto alla sinistra perché la sinistra cambia realizza il PD e noi facciamo il PDL la sinistra lancia le primarie e noi ci accodiamo alle primarie noi lanciamo un leader giovane affermato di qualità e dopo sei mesi che lo mettiamo in campo a un certo punto si ferma la partita allora tutto questo non aiuta il percorso del nostro partito io credo profondamente nel PDL si chiami PDL proprio la libertà cambiando nome io credo molto in questa comunità umana e politica che si ritrova attorno a questi leader e che comunque riesce a esprimere sui territori molto di più di quanto si esprima sul livello nazionale cioè io sono uno di quelli che e l'ho detto pubblicamente anche in un'intervista in qualche intervista nell'ultimo anno nell'ultimo anno e mezzo mentre Malcotti se non sbaglio chi parlava di talk show io non guardo più i talk show della politica non per un fatto di carenza di contenuti perché noi mandiamo ormai negli ultimi 7-8 anni sempre le stesse persone a rappresentare il centrodestra e che io se io che faccio politica ho difficoltà a guardare sempre le stesse persone a porta a porta o altrove figuriamoci i nostri lettori figuriamoci i cittadini che sono i destinatari di tutte quelle scelte giuste o sbagliate tante di queste sbagliate che vengono fatte dai governi nazionali e allora guardate io ieri sera sono rimasto in albergo perché piovendo poi non mi sono diciamo organizzato per andare a cena con Fausto Luciano insomma avevamo pensato di fare qualcosa insieme e ho osservato ho guardato il Tg1 poi ho guardato Canale 5 e non mi nascondo che fa un certo effetto adesso io non voglio parlare degli avversari perché non ho né stima né tantomeno ho grande rispetto però non nutro stima per la gente che sta all'altra parte insomma voglio dire più di tanto sono poche le persone valide nel campo avverso però guardate che fa un certo effetto vedere un ragazzo che si presenta in maniera elegante con la camicia bianca con la cravatta che parla poi come dice giustamente Giovanni Donzelli molto pieno di sé e così via però quando voi mettete in campo uno come Renzi e dall'altra dall'altra c'è Bersani i cittadini italiani non i giovani guardano con grande simpatia uno come Renzi e allora non è vero che Renzi spacca il PD Renzi scende in campo perché intelligentemente riuscirà a raccogliere quel dissenso che si crea attorno a Bersani e quindi rafforza il PD e quindi noi dobbiamo darci una mossa dobbiamo incominciare a decidere dobbiamo decidere se il nostro leader si chiama e non può che essere sicuramente un leader che possa competere per competere significa un uomo che possa da qui ai prossimi cinque anni minimo rappresentare un gruppo dirigente è comunque una parte del paese ma voglio dire non c'è dubbio poi è vero c'è un'altra alternativa che oggi emerge e sulla quale io voglio dire così mi giocherei una partita come seconda ipotesi è che pensiamo ai prossimi cinque anni pensando che questi cinque anni che arriveranno cioè pensiamo diciamo così dopo i cinque anni futuri perché comunque in questi cinque anni possiamo pensare a una sorta di pareggio può essere anche una strategia però questa classe dirigente si deve riorganizzare noi non possiamo pensare di incontrarci solamente quando c'è Atreio che ci offre questa opportunità e i giovani di questo partito i giovani che hanno ruoli di prestigio importanti all'interno diciamo così delle assemblee elettive non trovano il momento per continuare o cominciare anzi un discorso per parlare di futuro del partito e di futuro del paese e allora siamo tutti diciamo così intruppati all'interno delle manifestazioni che vengono organizzate dalle tante fondazioni dalle tante associazioni però in questo momento c'è bisogno di un motivo un momento di unione e di confronto che non può non essere intanto generazionale perché è vero che ci sono tante persone di qualità che sono anche più grandi di noi che sono certamente validissime ma noi dobbiamo oggi incominciare a pensare che questo centrodestra ha fallito sai perché? perché nel posto 68 come qualcuno diceva cancellato il 68 e tutto il resto però loro sono rimasti in maniera intelligente posizionati sull'idea di costruire un gruppo dirigente che al di là della politica fosse presente nel mondo della scuola e nelle università hanno egemonizzato questo mondo e quello della magistratura e il 92 ci dice che questo è stato diciamo così la parte questo percorso si è concluso nel 92 oggi questa sinistra questo centrosinistra sta egemonizzando parte di questi mondi e ci è giunto l'informazione noi siamo carenti nell'informazione cioè qui possiamo ogni giorno lavorare allacremente noi in Calabria Alessandro in Lombardia e Luca nel Lazio possiamo fare un grandissimo sforzo ma la comunicazione ciò che arriva al cittadino è decisamente molto più ridotto rispetto al valore reale cioè se io oggi ti dico che tra dieci giorni in Calabria pubblichiamo dieci bandi per l'occupazione abbiamo messo in campo 160 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per creare 12.000 posti di lavoro 12-14.000 posti di lavoro secondo un percorso se ti dico che ne abbiamo creati dall'atto dell'insediamento con bandi specifici circa 6.003 ma non lo sa nessuno eccetto chi ha beneficiato di questo tipo di azione e poi sì è chiaro che noi abbiamo le risorse con l'assistenza tecnica per comunicare per fare i piani di comunicazione ma i messaggi che oggi piace al cittadino è il messaggio quello di rottura quello che serve diciamo così del versante giustizialista di tutte le aggressioni che vengono fatte noi dobbiamo invece continuare a lavorare sul versante positivo e propositivo cioè di quelle azioni in grado di produrre benefici sul territorio perché tutto ciò che noi faremo e che va verso la gente che ha una ricaduta positiva ci legittima gli occhi del cittadino questo sui vari livelli istituzionali poi c'è il problema del livello nazionale e Angelino Alfano aveva tentato sta facendo in alcune fasi di questo rapporto col governo nazionale una serie di azioni sta mettendo in campo cercando di indirizzare le scelte del governo però noi non possiamo più tardare avevamo lanciato l'ufficio di presidenza le primarie e io ho detto le primarie ci accodiamo alla sinistra sono favorevoli in ufficio di presidenza facciamo le primarie non se ne parla più di primarie cioè siamo fermi non può essere questo un partito statico questo deve essere un partito dinamico un partito che si muove il messaggio che può e deve partire da qui è che noi dobbiamo al di là dello stimolo che dobbiamo dare e ho concluso il messaggio è quello di incominciare a organizzarci perché non tutti domani devono essere diciamo così devono entrare nei consigli regionali o in Parlamento i nostri giovani ci sono tanti bravi ragazzi competenti di qualità che per me oggi è molto più importante avere avere un dirigente alla regione un dirigente al comune avere un manager in una municipalizzata avere domani qualcuno che riesce a costruire con me un percorso che non è soltanto politico un mondo imprenditoriale che si accosta a noi perché crede nelle nostre scelte un mondo diciamo di burocrati che comunque è al servizio delle nostre idee del nostro progetto inteso in maniera nobile dell'obiettivo da raggiungere noi siamo relegati ai margini e quella parte a volte di società che magari ci sentiamo che abbiamo vicino l'abbiamo soltanto perché c'è un rapporto diretto e personale non può essere più così noi dobbiamo costruire un percorso un rapporto che sia politico che sia di condivisione di strategia che guardi al futuro del paese che sia nell'interesse del cittadino prima e poi degli interessi personali ovviamente di chi si accosta a noi noi siamo portatori di parole e di idee noi non abbiamo mai coltivato il sogno di un interesse personale particolare almeno io Luca e tanti altri Silvestris in questo lo metto in questo gruppo che abbiamo fatto politica per ben altri motivi e per ben altre scelte Presidente io una cosa e una critica sicuramente al partito io molte volte in Toscana ma anche da altre parti l'ho fatta quando nel novembre scorso è arrivato Monti e lo abbiamo perché lo abbiamo aderà di poi di un distacco mano a mano evidente di parlamentari nei confronti del governo Monti ma il governo Monti lo abbiamo sostenuto e il governo Monti c'è attualmente io personalmente credo che si è fatto un grande errore nel sostenere il governo Monti ma soprattutto nel non spiegare al nostro elettorato mai perché lo abbiamo fatto e credo che sia mancato anche il coraggio da parte della classe dirigente a tutti i livelli di andare poi a fare delle iniziative dove motivare questa scelta perché vede vedi Presidente anche in Toscana ma non solo se il nostro elettorato al di là dei congressi non vede la gente in piazza non rivede quel popolo dei gazebo quel popolo che ha fatto nascere il popolo della libertà fa la gente a risponderci a metterci la faccia succede che qualcuno può pensare ma se non ci sono questi hanno paura forse si vergognano forse allora anche loro stessi non gli va bene molti ma non hanno nemmeno il fegato e la faccia di venire a spiegarcelo ecco io credo che questo è stato un problema enorme che poi ci ha portato a far calare il numero dei voti in maniera rapida ecco che ne pensi guarda guarda in Calabria nel giugno del 2011 io ho riunito ho riunito il coordinamento regionale quindi i parlamentari i consigli regionali gli alleati e ho detto secondo me dobbiamo scendere in piazza allora qualcuno giustamente soprattutto vuole l'Udc alcuni dell'Udc hanno detto ma scopellito è impazzito vuole scendere in piazza dice come scendiamo in piazza a fare che noi governiamo e io ho detto noi dobbiamo scendere in piazza con uno slogan che era liberi di liberi di sognare liberi di governare perché ho detto prima o poi arriverà questa stagione di aggressione perché è strano che noi stiamo governando e non si sono create ancora quelle tensioni tali da metterci in difficoltà vedi quando tu vivi in una regione come in tutto il paese dove i governanti coloro che sono ovviamente hanno il compito di governare sono abituati una volta che arrivano dicono sì voi chi siete Federpharma bene voi chi siete i medici del pronto soccorso bene quanto avevate voi di finanziamento noi 50 milioni di euro bene io ne metto 60 voi invece 15 bene ne metto 18 e quindi cerca di acquistare acquisire il consenso dando erogando no poi pensa pensa un'altra cosa arriva un presidente un gruppo dirigente che è qui la forza nostra oggi in Calabria coeso e forte sotto questo punto di vista decide decide in un anno e mezzo di tagliare 140 milioni di euro di disavanzo della sanità recuperiamo 140 milioni su 254 del 2009 sui trasporti tagliamo con Fausto Orsomarso quindi 19 milioni di euro in sei mesi poi arriviamo sul turismo e qui sarà un'altra notizia importante che ancora non abbiamo ufficializzato e chiediamo a tutta una serie di operatori 47 milioni di euro da restituire alla regione poi arrivi sul versante dell'acqua della Sorical che era un pozzo senza fondo l'acqua c'era ma era ancora più profondo e mettiamo in campo la liquidazione della Sorical la società di gestione dell'acqua quindi capisci molto bene che per sintonizzarti sulla stagione del cambiamento e della spending review che noi concretamente stiamo realizzando nei fatti questo implica una serie di difficoltà cioè che contretamente a chi dava prima risorse e largiva finanziamenti a pioggia oggi c'è chi invece deve rappresentare il buon padre di famiglia e dire beh oggi sta cambiando il mondo il mondo è cambiato non possiamo far finta di essere un sud che è disattento e che non recepisce questo messaggio questo tipo di esperienza questo tipo di esperienza io e l'ho rappresentata per spiegare perché questo non è stato fatto sul livello nazionale perché se noi avessimo fatto questo non ci saremmo trovati di fronte al commissariamento della politica non avremmo avuto bisogno di Monti questo è il problema che abbiamo avuto abbiamo avuto un anno fa quasi un anno fa allora Monti Monti arriva e commissaria la politica noi tutti possiamo dire che il fallimento della politica il PDL è lì giustamente ha dimostrato che cosa il senso di responsabilità degli uomini che devono avere a cuore le sorti del paese perché non sostenere Monti probabilmente avrebbe significato elezioni caos confusione e maggiore preoccupazione del paese adesso Monti viene sostenuto però noi dobbiamo dare anche qui i paletti a Monti perché abbiamo dimostrato di essere coerenti su questa scelta e dobbiamo continuare a farlo per il bene del paese ma dobbiamo costruire l'alternativa però e questo diventa ancora più importante e allora perché non trovi più la gente perché la gente non capisce però io ti posso raccontare che noi abbiamo fatto una manifestazione il primo ottobre lo scorso anno a Cosenza che rimane nella storia di questa regione ti posso raccontare che la triplice sindacale e qualsiasi altro partito non si è più sognata dopo quel primo ottobre di fare una manifestazione di piazza sai perché? perché se scendono in piazza o sono tre volte il PDL e il centrodestra oppure se ne stanno a casa e quindi hanno deciso di non fare ancora oggi dopo un anno con tutti i fermenti i problemi che abbiamo non ci sono manifestazioni importanti di piazza noi quella manifestazione l'abbiamo organizzata e tutti quanti mi presero per pazzo perché dovetti cambiare lo slogan perché dall'idea liberi di sognare liberi di governare abbiamo dovuto mettere in campo l'idea di rappresentare le tante cose che stavamo facendo poi quando sono incominciate le indagini le aggressioni e altre cose hanno incominciato a dire allora era vero questo non è che tu avevi chissà quale grandi diciamo elementi è fisiologico che chi rappresenta un momento di rottura con i poteri forti di un territorio chiaramente prima o poi viene aggredito e allora devi avere la forza e il coraggio di metterti in piazza al punto che un direttore di un giornale scrisse il centro-destra governa un centro-destra di piazza e di governo perché noi siamo riusciti a fare anche questo e dovremo ancora riuscire a fare tantissime cose per continuare a consolidare o comunque a tenere in questa fase il consenso che non è facile perché c'è come accade oggi un'aggressione feroce sulla mia persona che nasce dal fatto di delegittimare la città di Reggio Calabria in tutti i modi dalla commissione d'accesso antimafia al buco di bilancio e tutto il resto per poi dire che il fallimento di Reggio Calabria è riconducibile a chi oggi governa la regione e quindi puoi attaccarti su questo versante è una cosa ignobile alla quale purtroppo una parte della stampa si è prestata proprio per quello che dicevo prima e quando poi qualcuno dice scusate ma a Torino c'è un buco di bilancio a Venezia c'è un buco di bilancio a Parma c'è pure c'è la Roma Alemanno Gianni mi ha mandato le carte qualche settimana fa qualche mese fa Roma aveva un buco di bilancio di 12 miliardi scusate non sono i 100 milioni di Reggio Calabria 12 miliardi eppure Veltrone non è stato mai indagato non ci sono indagini delle procure ma la stessa cosa è a Palermo la stessa cosa è a Napoli con De Magistris io non ho visto la Iervolino indagata che cacchio ne può sapere un sindaco cosa fa un dirigente se gonfia o meno il bilancio quando la legge quando la legge quando la legge è chiara quando la legge è chiara e dice che una cosa è la responsabilità dei dirigenti l'altra è l'indirizzo che aspetta la politica il dirigente di un comune percepisce più di un sindaco perché ha la responsabilità di guidare il suo comparto e uno si trova indagato per falso di bilancio sul fatto il presupposto che non potevi non sapere allora se questi sono gli elementi per carità non entro nel merito giudiziario ma dico la disparità che oggi c'è in questo paese c'è l'aggressione verso una città però poi esce Luciano Vigna da Cosenza fa una conferenza stampa e dice scusate anche noi a Cosenza abbiamo il buco di bilancio non è certificato dagli ispettori del ministero perché il centrodestra e su questo io lo rivendico ed è per noi comunque un punto di forza noi pure potevamo mandare a cadanzare a Cosenza con le interrogazioni parlamentari gli ispettori ministeriali per dimostrare i buchi che ci sono in quei comuni però abbiamo sempre pensato e abbiamo sempre detto per parlare di Calabria che forse è da evitare perché quello che si sta provando a Reggio Calabria con le banche che sono preoccupate che non tirano i finanziamenti perché non si sa mai tutte queste problematiche poi hanno delle ricadute negative sul territorio il centro-sinistra quello che non si può perdonare a questi signori è il ruolo di sciacallaggio che mettono in campo cioè non riescono a vincere sul tappeto sul campo da gioco della politica e cercano di vincere attraverso questi sistemi noi questo dobbiamo denunciare che il nostro modo di fare politica è un modo di fare politica coerente che si gioca sulla qualità delle idee dei progetti delle azioni e soprattutto sulla credibilità degli uomini noi siamo forti perché abbiamo uomini che hanno il coraggio delle proprie idee delle proprie azioni poi l'imbecille lo trovi sempre il fiorito di turno se si chiama fiorito c'è dovunque c'è colui che sbaglia c'è dovunque purtroppo come c'è il consigliere regionale che va dal capo mafia a chiedere i voti un imbecille non è può essere apostofato o chiamato in maniera diversa è la dimostrazione che la politica però non possono farla tutti e che se la politica torna ad essere militanza e capacità di costruzione di un percorso che nasce dalla capacità di stare insieme di costituire una comunità e si comprende bene il bisogno di quello che serve al paese anziché di ciò che serve a noi ecco perché noi dobbiamo immaginare una legge elettorale sulle preferenze pensa che io in Calabria un anno e mezzo fa ho lanciato il dibattito perché non facciamo una legge come quella del Parlamento così non abbiamo più problemi che ognuno che va a chiedere i voti prima quando ha detto Luca Malcotti vado a cena io e Peppe Peda abbiamo detto noi a cena non andiamo più a cena noi non andiamo più a cena se non sappiamo con chi siamo perché se tu vai a un matrimonio e ti trovi poi e ti trovi poi e ti trovi poi su anno zero di uno che ti dice che tu eri a tavola col boss dove c'erano 300 persone e tu eri con tua moglie e con tua figlia al tavolo e qualcuno poi ti racconta e ti dice a tutta Italia che tu eri a pranzo con un boss ma di che cosa stiamo parlando in questo paese che per arrivare per giudicare noi e per aprire un'indagine ci vuole un minuto ma per avere giustizia rispetto alle nefandezze di giornalisti che sono una banda di delinquenti alcuni perché sono dei killer perché ci sono giornalisti che sono la mano armata dei poteri forti della politica e non solo per avere giustizia dobbiamo aspettare anni per essere risarciti ma voi pensate ma voi pensate che noi possiamo sopportare dopo una vita trascorsa nella militanza e nell'idea di servire le nostre comunità e la nostra gente noi possiamo accettare che qualcuno un imbecilo di turno si alzi che magari non ha neanche la diciamo così non è pure neanche giornalista giornalista a tutti gli effetti sono magari i pubblicisti i freelance che possano insultare la dignità e la coerenza della storia delle persone questo è il paese in cui viviamo ecco perché dobbiamo continuare a lavorare per cambiare questo paese e il PDL deve pensare una volta per tutte che oggi dobbiamo mettere in campo una grande idea per questo paese e quante volte noi abbiamo parlato uno che vive in Europa come Sergio Silvestri saldi là delle battute ha sempre detto noi dobbiamo raccontare agli italiani cosa faremo da qui ai prossimi 30 anni quale paese consegneremo ai nostri nipoti probabilmente se non ai nostri figli questo significa essere classe dirigente non cosa tra 30 anni cosa immaginiamo di realizzare oggi per i prossimi 30 anni perché questo è un paese allo sbando dove non esistono più regole dove non c'è più una logica ma noi questo paese visto che lo amiamo dobbiamo ricostruirlo e quindi noi dobbiamo lavorare ogni giorno insieme e pensare di costruire questo grande sogno del futuro mi ricollego a quello mi ricollego a quello che hai detto ora del grande sogno per il futuro da presidente di una regione del sud guardando al futuro e quindi anche a un'alleanza o comunque una collaborazione stretta a fine elettorali con la Lega Nord l'arrivo di Maroni e tutte le conseguenze che ci possono essere è fattibile secondo te ricostruire e progettare casomai comunque in questo grande sogno un'alleanza con la Lega Nord oppure l'arrivo di Maroni e l'abbandono di Bossi ci ha messo in una condizione per cui è difficile non so guarda andata dal sud ma in generale io sarò sarò il 28 e il 29 a Torino perché c'è la regione della Lega e sono stato invitato al dibattito con i presidenti leghisti delle due regioni saremo credo io Cota e Zaya non vorrei sbagliare io penso che la Lega abbia capito che ormai il meccanismo diciamo così del nord del nord di questa sorta di ghettizzazione che si sono realizzati da soli insomma non produca più grandi risultati e secondo me Maroni che è un uomo politico intelligente almeno io lo apprezzo sta lavorando per cercare di costruire un partito che abbia una dimensione nazionale e quindi sono sempre stato molto propenso a un dialogo con la Lega ovviamente mantenendo fede a quelle che sono storicamente sono i nostri valori insomma di riferimento l'identità l'unità nazionale mi sembra chiaro ed evidente vedi però mi ha colpito l'altro giorno Maroni che ha fatto una battuta dice come come i tablet ai professori del sud dice il nord rimane escluso e io stavo replicando dicendo beh noi pensavamo che visto che voi siete sempre avanti a tutti ci aveste già i tablet per i professori no? allora ma al di là di questa semplice battuta io sono uno di quelli che pensa che all'interno di quel contenitore qualcuno ha chiamato prima contenitore che abbiamo più volte immaginato si possano ritrovare tutte quelle forze che sono affini a noi cioè io sono preoccupato di due cose oggi poi torno su questo argomento uno che questa legge elettorale si faccia e sono felice del fatto che questa legge elettorale si andrà a fare però dall'altra spero che questo non comporti un sacrificio e qui c'è il rischio che si abbandoni la logica bipolare perché ormai tutti quanti dicono andiamo avanti noi col nostro leader poi vedremo come aggregarci allora significa che io faccio la mia campagna elettorale racconto tutte le cose ai cittadini di ciò che vorrò realizzare dopodiché siccome dovrò metterci dentro tutta una serie di partiti che hanno un documento programmatico probabilmente diverso dal mio non potrò mantenere fede a un impegno cioè dico questo perché cinque anni fa abbiamo provato in Italia che quando c'era Prodi con un documento programmatico che vedeva dentro da rifondazione alla Margherita quel governo è fallito figuriamoci cosa sarà il futuro del nostro paese facendo facendo ogni partito un proprio programma e poi dopo recuperare l'idea di un'aggregazione che nasce sulla scorta di valutazioni che capiremo quali saranno cioè qui corriamo il rischio di tornare indietro io non so se è un bene o un male l'unica cosa certa che io condivido è l'idea delle preferenze allora in tutto questo io credo che noi si possa continuare a dialogare con la Lega e continuo a sostenere che noi abbiamo molte più affinità col centro e con l'Udc cioè in Calabria noi abbiamo un'esperienza estremamente positiva con l'Udc però noi abbiamo interrotto il rapporto sul livello nazionale oggi si è riaperto sulla scorta delle preferenze nella legge elettorale guardate che io in Calabria non più tardi qualche settimana fa ho avuto una riunione con i sindaci e da me si sono avvicinate almeno 3-4 sindaci l'Udc che mi hanno detto testualmente se l'Udc farà un accordo con Bersani noi passeremo col centrodestra io non credo che l'interesse di l'interesse di Casini sia quello di disperdere un patrimonio perché è provato statisticamente dai sondaggi e così via che c'è almeno un 30-40% di elettorato del centro dell'Udc che gradisce che preferisce l'alleanza col centrodestra però manca quella capacità di dialogo cioè quello che noi oggi stiamo registrando che io sto registrando dalla periferia è che al centro per alcuni aspetti si era interrotto il rapporto con l'Udc pensando che l'accordo fatto in Sicilia fosse un accordo che nasce in Sicilia per poi riprodursi sul livello nazionale invece non è così perché poi grazie a Dio ci ha pensato Vendola dicendo io mi sposo e noi tutti abbiamo pensato i testimoni saranno Bersani e Casini poi ci siamo resi conto che non era così e quindi noi dobbiamo rimettere in modo questa capacità di dialogo e di confronto perché ci sono tutte le condizioni per creare questo grande contenitore poi c'è la variabile di tutte queste tutte queste liste e listarelle cioè se tu vai a votare con un sistema come quello attuale delle liste bloccate Grillo prende magari più del 20% ma se tu vai a votare con un sistema in cui i grillini devono scendere in campo e metterci la faccia che quindi non significa votare più il simbolo io ho dubbi che Grillo possa superare il 12-14% proprio all'andare bene perché guardate che contestare è facile guardate che scendere in piazza e urlare è facilissimo governare è qualcosa di molto più complesso e articolato e quando si governa bisogna portarsi delle esperienze maturate all'interno delle amministrazioni che oggi non bastano più perché nel governare ci vuole la saggezza e la capacità di comprendere che c'è una squadra che lavora e ragionare poi pensando sempre di raggiungere l'obiettivo che è il bene comune cioè Parma quando vinci il grillino a Parma io ho detto secondo me questo non resterà in piedi ancora per tanto tempo e mi pare qualche difficoltà l'abbia perché non è uno scherzo governare c'è un'assunzione di responsabilità grande e enorme e allora noi come riusciamo a smontare tutte queste liste alternative per carità che è giusto che ci siano tanto però noi le riusciremo a smontare mettendo sempre di più in campo una politica che sa calarsi sul territorio che sa spiegare le sue motivazioni le sue scelte che sa spiegare i problemi che deve affrontare anche all'interno ma una politica che attraverso la preferenza recuperi il rapporto diretto col cittadino perché è vero noi abbiamo parlamentari che in Calabria non vengono mai tanto vivono a Roma o vivono altrove non vengono mai e quindi noi ci sobbarchiamo il peso la responsabilità di dover essere gli interlocutori anche di quelli che magari non vengono dico in Calabria per dire in Puglia per dire altrove cioè non è che dico in Calabria per dire e quindi noi oggi decidiamo tutti insieme speriamo che la scelta delle preferenze implicano obbligatoriamente che domani i candidati siano quelli che hanno vissuto il territorio che vivono il territorio che hanno un radicamento cioè quelli che hanno una storia carobino come te come altri gente che ha un'esperienza maturata sul campo che quando gira per la Calabria gira sul corso di una città principale c'è gente che quando passeggia nessuno la saluta nessuno la riconosce perché sono degli illustri sconosciuti e quindi noi non possiamo permetterci più questo lusso perché la legge del Porcellum la legge del Porcellum è una legge Porcellum che se tu che se tu la 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 leggi in maniera positiva è una legge eccezionale perché consegna ai partiti la possibilità di individuare chi deve essere a rappresentare il cittadino il problema è che i partiti hanno tradito le aspettative se no quella era la miglior legge perché comunque il partito dava un'indicazione di massima il problema è che poi sono arrivate le veline le signorine a destra quella a sinistra quello che aveva interessi personali quello che magari finanziava la campagna elettorale quello che magari era pronto a fare i grandi i grandi interventi le grandi cose e se voi vedete e se voi vedete se voi vedete quando vengono pubblicate le gradatore classifiche di chi e le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari noi siamo prevalentemente in testa a queste a queste gradatorie a me non importa nulla che i nostri parlamentari abbiano un reddito diciamo altissimo perché sono imprenditori e tutto il resto io voglio gente che lavori per la nostra comunità e non gente che magari pensa di entrare in politica come spesso è accaduto un po' dovunque e a tutte le latitudini per tutelare i propri interessi personali non è questa più la stagione o meglio non c'è mai appartenuta ti faccio ancora due domande rapide anche le risposte poi dopo credo che il morso della fama comincia a prendere una domanda riguarda l'UDC perché l'hai citata prima ce l'hai maggioranza quindi ce la voglio fare ma quando hai visto le immagini di Chianciano e ti sei trovato Casini sul palco insieme a Fini alla Marcegaglia e al Ministro Passera hai sempre pensato che quell'UDC può stare con noi hai pensato che Casini ha fatto un po' confusione per farsi notare cosa hai pensato? ho pensato che ci sono ancora le condizioni per lavorare insieme io sono fortemente convinto che che l'UDC non abbia grandi chance se non lavorare con noi certo poi per carità ognuno può fare le scelte che ritiene opportuno ma non sono scelte coerenti con la propria storia non sono scelte coerenti con i propri valori quindi la Marcegaglia è un grande imprenditore Passera è stato lì indicato presumo anche dal PDL però comunque diciamo così è un partito che continua ad essere ad oscillare tra il 6 e l'8% Gianfranco Fini ovviamente si trova all'interno di questo terzo polo che mi sembra che ormai questo terzo polo si sia sempre più sgonfiato ormai è chiaro e evidente che anche Rutelli in queste ore assume la posizione di volersi schierare per le primarie col Partito Democratico quindi ritorna all'interno di quel contenitore quindi si disgrega sempre di più e noi dobbiamo essere bravi a trovare i motivi per continuare a dialogare con questa forza che io ritengo almeno governa la regione Campania la Lombardia insieme a noi e la Calabria quindi voglio dire marginale sicuramente nel nord come in Lombardia però comunque oggi cioè quello che il PDL adesso non vorrei diciamo così apparire un pochettino esagerato ma il PDL oggi dovrebbe ripartire da una capacità di dialogo con i governatori cioè perché noi abbiamo su 20 e passeregioni quanti sono per le statute speciali province autonome e così via noi abbiamo se non sbaglio un 8 o 10 governatori che sono nel PDL in tutta Italia e noi dobbiamo ripartire da lì perché se poi il consenso sarà un consenso su base provinciale se poi ovviamente sarà un consenso anche per la fine sul versante su base regionale con il complesso noi dobbiamo incominciare a ripartire da lì cioè anche le cose che Angelino dice a Monti per alcuni aspetti vanno recuperate sul versante periferico delle regioni perché possono diventare un motivo e quindi un motivo di sintesi e di azione comune e collegiale anche da parte dei governatori quindi io non tralascerei questo aspetto che secondo me non è secondario oggi anche perché ormai si console ad esempio di più la concezione ma poi infatti in parte lo è che le regioni sono quelle che hanno le risorse e quindi possono fare gli investimenti ci sono i fondi comunitari ci sono i soldi che comunque in definitiva nonostante tutti i tagli esistono ancora e che possono indirizzare anche la politica verso lo sviluppo ti faccio un'ultima domanda e usciamo dall'Italia però andiamo in America per parlare un po' di politica estera e di politica purtroppo di questi giorni quello che sta accadendo anche poi non direttamente in America ma in Libia e quindi di riflesso anche in America c'è una campagna elettorale che si sta scaldando in America fra due personaggi Obama e Romney credo che siano due Americhe completamente diverse e credo che non ci siano dubbi al momento il fatto dell'altro giorno in Libia io credo che abbia dato un altro motivo per un elettore incerto americano su quale parte scegliere per difendere quella bandiera e quella forza che è sempre stata negli Stati Uniti in America per tutti noi cos'è che c'è di vero secondo te in questo scontro che noi possiamo prendere come punto di riferimento per una migliore politica di centrodestra guardando il partito repubblicano ma soprattutto come vedi questo scontro e se credi veramente che sia possibile cambiare perché potrebbe essere anche importante di riflesso per l'Italia l'arrivo di Romney anziché il mantenimento di Obama ma quello che accade spesso nello scenario internazionale è che ogni qualvolta che ci sono le elezioni in America accade qualcosa di tragico qualche evento particolare come quello che è accaduto in Libia credo che il presidente uscente paghi molto diciamo così abbia un po' accusato il colpo per una serie di scelte come quella della riforma e della sanità quindi sono state cose abbastanza evidenti che hanno generato un po' di malcontento credo anche che ad esempio l'anno scorso Obama è venuto alla NIAF proprio perché sente che ormai si avvicinano alle elezioni probabilmente ci verrà anche quest'anno a Washington a questo evento dove noi saremo presenti anche come regione e ovviamente cerca di recuperare il massimo del consenso però è sicuramente in grande difficoltà io credo che i repubblicani abbiano messo in campo una politica alternativa interessante però non è facile non è facile comunque vincere e riuscire a superare in questo momento lo scoglio del presidente uscente perché poi adesso non ricordo bene ma la storia in generale bene o male c'è sempre o quasi sempre la riconferma dell'uscente perché i tempi sono ancora molto ristretti e quindi sono diversi dal nostro paese ma comunque viene quasi in automatico spesso la riconferma però credo che se in questi mesi riusciranno ancora di più a incidere in maniera forte mettendo in campo tutti gli strumenti che ovviamente sono quelli della capacità di rafforzare l'alternativa a Obama credo che i repubblicani potranno certamente governare il paese più importante più grande diciamo così più prestigioso del mondo per noi una vittoria dei repubblicani sicuramente rappresenta un ulteriore riferimento importante anche in vista della tornata elettorale delle politiche quindi delle nazionali delle politiche in Italia quindi anche questo noi lo guardiamo con sempre lo seguiamo con grande attenzione essendo diciamo per noi un riferimento importante quello che è il mondo diciamo degli Stati Uniti grazie ci sono domande dal pubblico o qualcuno vuole chiedere qualcosa in particolare al Presidente approfittando di questa fortuna di averlo qui eccetto Sergio Silvestris va bene allora intanto arriva un dono che penso apprezzerai molto volentieri ringrazio quindi il Presidente della Regione Calabria grazie a tutti e buon appetito grazie a tutti 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 grazie a tutti